Buonasera. Mi spiace che siamo qua in condizioni, insomma, dal punto di vista climatico un po' meno gradevoli del solito, d'altra parte mi dicono che qua dentro ci sta più gente che non sugli spalti della fortezza e quindi va bene così alla fine. Allora, voi sapete che l'idea di quest'anno per quanto riguarda le mie tre lezioni è di presentare tre personaggi del Medioevo, di presentare tre uomini del Medioevo provando a capire chi erano, come pensavano, come vedevano il mondo, un frate, un mercante, un cavaliere. Naturalmente per poter sapere chi erano queste persone, per poter entrare nella loro testa e com'è che si fa? Ebbè, sono tre persone che hanno scritto, sono tre uomini che hanno lasciato dietro di sé dei libri, delle cronache in cui hanno messo molto di se stessi. Ovviamente questo, l'obiezione viene fuori subito, non erano proprio persone normali. Un cavaliere che ha scritto un libro non era proprio uguale a tutti gli altri cavalieri. Un mercante che ha scritto un libro peggio che mai. Un frate, ancora ancora, tutto sommato i frati scrivevano abbastanza, però in ogni caso è chiaro che sono tre personaggi eccezionali. E tuttavia ci hanno lasciato questi tre personaggi delle opere talmente ampie che dentro c'è l'uomo, insomma ogni volta dentro c'è l'uomo. C'è il suo modo di essere, il suo modo di ragionare, i suoi valori, i suoi pregiudizi, il suo modo di vedere il mondo. Stasera cominciamo da un frate. Io poi non ho fatto altro che dirmi che ho fatto malissimo a cominciare dal frate perché dei tre il frate è quello che ha scritto il libro più grosso. Io non me lo sono neanche portato stasera talmente grosso, nei prossimi giorni me li porterò i libri del mercante e del cavaliere. Il libro del frate non l'ho portato perché il frate di cui vi parlo ha scritto una cronaca che a stampa occupa circa 900 pagine e questo vuol dire che non è stato per niente facile selezionare le cose da raccontarvi, scegliere nel mare di cose che quest'uomo ci ha raccontato che cosa tirar fuori per provare a dare un'idea di chi era e di come pensava. Comunque insomma ci provo. Questo frate si chiama Salimbene da Parma, si chiamerebbe Salimbene de Adam, quella è la sua famiglia ma insomma lui appena è partito da Parma è stato conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. Questo Salimbene chi era dunque? È un frate francescano, è un frate del 200, potrebbe essere il nonno di Dante come età più o meno. È un frate francescano e sotto molti aspetti la sua mentalità, il suo modo di ragionare forse assomiglia a quello di tutti gli altri frati ma sotto altri aspetti è un uomo con le sue idiosincrasie, con le sue caratteristiche personali. Proviamo a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. Io direi che la prima cosa che colpisce leggendo l'opera di Salimbene è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato, in un mondo razionale. Il mondo di Salimbene, il mondo di un italiano, di un frate italiano del 200, è un mondo ordinato, razionale, non grazie agli uomini. Gli uomini sono dei cialtroni, dei delinquenti, fanno di tutto per distruggere l'armonia della realtà ma di per sé il mondo è ordinato perché Dio l'ha costruito così. C'è questa profonda fiducia nel fatto che il mondo ha una sua logica, l'ha costruito Dio e Dio ha dato anche all'uomo i mezzi per interpretarlo. Sono le Sacre Scritture, la Bibbia. Le Sacre Scritture sono un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Nella Bibbia, agli occhi di uno come Salimbene, c'è tutto. Ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa succeda, uno che conosce la Bibbia trova nella Bibbia non uno ma 5, 10, 15 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico pieno di contraddizioni, bisogna saperlo interpretare, però dentro c'è tutto. Permette di orientarsi nella vita, se uno la conosce. E la prima cosa stupefacente che noi troviamo se entriamo nella testa di Fra Salimbene, francescano padano del 200, è che lui la Bibbia praticamente la sa a memoria. A dirlo oggi uno rischia di non crederci, perché eppure loro funzionavano così, gli intellettuali di allora funzionavano così, avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. La Bibbia la sa a memoria e del resto dovevano saperla a memoria, perché Salimbene non è un frate qualunque, è un predicatore, è uno di quegli uomini selezionati che sono stati scelti e preparati dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio in una sala con mille persone, parlare alla gente, farsi ascoltare e farsi capire. Parlare alla gente di cosa? Lui doveva parlare di fede, di teologia, di religione, doveva combattere gli eretici, doveva convincere la gente che la Chiesa ha ragione e gli eretici hanno torto. Per far questo doveva poter citare continuamente la Bibbia a sostegno di tutto quello che diceva. E poi non basta, in quel mondo degli intellettuali di quell'epoca, come dire, era un orgoglio saper bene le cose, essere bravi, essere in grado di affrontare una discussione. Il loro orgoglio stava nell'essere bravi nelle dispute pubbliche, ci sono tante cose da discutere, tante cose incerte, diversi intellettuali si incontrano e in pubblico discutono e vince il più bravo. E il più bravo è anche quello che per sostenere le cose che dice sa citare la Bibbia, sa trovare uno, cinque, dieci passi della Bibbia che gli danno ragione. E lì non ce l'hai il libro, lì devi saperla a memoria. Uno dice ma come faceva a sapere a memoria la Bibbia? E beh ma perché loro funzionavano così. C'è un passo in Salimbene nella sua cronaca che è molto istruttivo. Salimbene a un certo punto cita una canzonetta satirica che sfotte un domenicano, va sempre bene sfottere i domenicani per i francescani, ci ritorneremo, cita una canzonetta satirica che prende in giro un domenicano, cita otto versi di questa canzonetta in latino e poi dice Salimbene non me ne ricordo di più perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta e quando l'ho letta non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo capite cosa vuol dire? Vuol dire che uno normalmente quando legge impara a memoria e impara a memoria per forza perché bisogna far così, perché i libri sono pochi, tanti dei libri che tu leggi li leggi perché ti hanno mandato nel convento di Fano e nella biblioteca del convento di Fano c'è un bel libro che ti interessa e tu lo leggi e chissà se lo ritroverai mai più quel libro, sono tutti scritti a mano i libri e quindi tu lo leggi e lo impari a memoria. Di rado puoi permetterti di far copiare un libro che ti interessa, te lo fai prestare, trovi un copista, hai i soldi, lo paghi oppure se ti interessa davvero tanto ti ci metti tu, te lo copi. Un intellettuale di quell'epoca ogni tanto passa tre mesi a copiarsi un libro che gli interessa molto e che gli hanno prestato. Quindi i libri hanno un valore immenso, uno dice prendi appunti, non è mica facile, su cosa? La carta l'hanno appena inventata e costa cara, la pergamena costa ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice sì quando io ero giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, non quella che ci è arrivata che lui aveva poi scritto quando era ormai vecchio, dice avevo cominciato a scrivere una cronaca, sono arrivato fino ai Longobardi, poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. Ecco in queste condizioni l'unico magazzino che uno ha a disposizione è la testa e nella testa fa entrare tutto quello che può entrarci. Quindi uno come Salimbene la Bibbia la sa a memoria. Sapere a memoria la Bibbia vuol dire sapersi orientare nel mondo, avere tutte le risposte pronte. Hai alle angosce che puoi avere tu e hai i dubbi che ti pongono i fedeli, perché i frati sono importanti, perché i predicatori sono importanti, perché i fedeli sono pieni di dubbi, ci deve essere qualcuno che sa rispondere ai loro dubbi. Salimbene fa parte di quella schiera ristretta di professionisti che sa rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia se uno la conosce bene permette perfino di prevedere il futuro e questa è una cosa che a Salimbene interessa tantissimo, a lui come a tanti nel suo mondo, capite voi prevedere il futuro, ecco loro sono abbastanza convinti che si possa, perché nella Bibbia c'è già tutto, la Bibbia prefigura anche le cose che devono ancora succedere e se uno ci lavora bene ha un manuale per prevedere anche il futuro. A quell'epoca c'era una dottrina che andava per la maggiore, era la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, questo era un monaco del secolo precedente morto da un bel pezzo ormai, monaco calabrese, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere di prevedere il futuro. La chiesa ufficialmente non ha mai detto sì è vero, non ha neanche mai detto sono tutte stupidaggini, lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i pochi miti, come si diceva, cioè quelli che credevano a questo sistema e Salimbene che scrive da vecchio dice io ora non ci credo più perché ho toccato con mano che le previsioni non sono tornate, non funzionano, però ci credevo, ci ho creduto a lungo. Salimbene è nato intorno a 1220-30, l'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato, non chiedetemi che calcoli aveva fatto sulla cronologia della Bibbia ma erano calcoli imponenti, nel 1200 cosa doveva succedere? Doveva succedere che al mondo arriva l'anticristo e questo si sa che succederà perché lo dice l'Apocalisse, quindi è già scritto, quel pezzo del futuro è già scritto, si sa arriverà l'anticristo, commetterà i peggiori crimini, il mondo sprofonderà nel sangue, poi però diceva l'abate Gioacchino nel 1260 l'anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene da giovane ci ha creduto e quelli come lui che ci credevano qual era il loro problema principale secondo voi? Stiamo a vedere chi è l'anticristo, dovrà comparire prima o poi, appena compare cerchiamo di indovinarlo che è lui, a un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro, l'imperatore Federico II, Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, grande uomo di potere e di cultura del 200, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri, uomo fuori dal mondo veramente ne riparleremo alla fine, ecco per molti Federico II è lui l'anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora, Salimbene ci ha creduto, molti anni dopo dice a un certo punto si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto e io non ci volevo credere perché ero talmente convinto che era lui l'anticristo e però non si era ancora manifestato in pieno tutto il disastro che l'anticristo doveva provocare, quindi io non ci credevo, poi ci ho dovuto credere dice Salimbene perché l'ho sentito dalla bocca del papa, stavo a Ferrara, è passato di lì il papa, ha predicato alla gente, io ero lì sul balcone accanto a lui, lo toccavo e il papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto, dice 1250, dice Salimbene 30 anni dopo ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema che io mi ero immaginato di previsione del futuro e tanti ci credono a questa cosa che si possa prevedere il futuro, Salimbene non è più gioachimita, non crede più al sistema di gioachino ma è pronto a credere ad altre cose perché veramente a loro li appassiona questa idea, noi beninteso crediamo di sapere già adesso quanto sarà la crescita del PIL del 2012 e questo è altrettanto ridicolo evidentemente, anzi probabilmente di più, loro ci tenevano a immaginare il futuro, a Salimbene a un certo punto vengono a raccontare che c'è un tizio, un profeta, ecco è comparso un nuovo profeta, chi è? Un poveraccio, un poveraccio di Parma, la sua città Salimbene di Parma, un tessitore, questo a un certo punto ha cominciato a profetizzare e le cose che diceva è funzionava insomma, a un certo punto si è ritirato in un monastero, un monastero dei cistercensi, fonte vivo fuori Parma, i cistercensi l'hanno accolto e dice Salimbene ma han parlato tanto di quest'uomo che sta lì in questo monastero, sta tutto il giorno chiuso in camera a scrivere, un artigiano capite, un operaio, un tessitore e profetizza il futuro, Salimbene gli sente raccontare queste cose e poi viene il momento che insomma non sta più nella pelle, vuole andarlo a conoscere questo, parte, va al monastero di fonte vivo, arriva lì, ci trova un suo amico, un francescano, un altro francescano che è medico, quindi fa il medico, sta lì dai cistercensi che sono un altro ordine, che lo tengono lì perché gli serve un medico, quest'altro francescano che vive lì gli dice a Salimbene guarda io ti potrei prestare tutti i libri che vuoi ma quest'uomo che cerchi è morto e dice Salimbene ma avrà lasciato i suoi libri, io so che scriveva continuamente, anzi so, dimenticavo di dirvelo, Salimbene prima ha raccontato quest'uomo scrive, scrive e dice testualmente Salimbene pubblica volentieri le sue opere, questa è un'altra cosa straordinaria perché noi oggi che scriviamo libri per noi pubblicare vuol dire andare da un editore e farlo stampare, cosa fai stampare un libro nel 200 che non ce la stampa, eppure loro hanno questa idea pubblicare vuol dire uno scrive, beh scrive per se stesso, scrive per la famiglia semmai, i libri di ricordi, poi invece c'è chi scrive e ha piacere che le sue cose siano conosciute e quindi le fa circolare, se uno viene lì gliele fa leggere gliele fa copiare perché bisogna copiare tutto a mano, questo profeta pubblicava volentieri le sue opere quindi Salimbene arriva al monastero e dice ma saranno rimasti i suoi libri e l'amico gli dice non è rimasto niente dei suoi libri, come mai? E l'amico un francescano anche lui gli dice ma sai questo qua molti ci credevano ma secondo me c'erano dei grossi problemi in questa idea delle sue profezie, insomma te la faccio breve gli dice l'amico. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti e che ha una sua arte particolare è un tecnico di una cosa specifica, è un tecnico della cancellatura dei manoscritti. Perché è la cancellatura dei manoscritti? Voi capite siamo sempre allo stesso problema, la pergamena costa cara e non si trova sempre, è una biblioteca dove si producono dei libri può trovarsi spesso nella situazione che bisogna fare un libro nuovo, c'è un'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena, allora cosa si fa? Beh si cancella un manoscritto vecchio che non serve più, è un'arte ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Noi oggi ci mettiamo le mani dei capelli pensiamo chissà quanta roba è andata perduta ma per loro era indispensabile e dunque continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che sconosceva quell'arte e dice io prima o poi morirò vorrei trasmetterla a qualcuno questa tecnica e io dice l'amico non c'era nessuno che voleva mettersi a imparare questa cosa mi sono messo io, ho imparato la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che i libri di questo profeta era meglio che non circolassero troppo li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimane malissimo anche questa volta e però dice notate che è interessante questa mentalità perché è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'inquisizione a fare i roghi di libri e la chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti però la cosa interessante è che all'epoca di Salimbene non è ancora il potere della chiesa che impone questo c'è ancora molta libertà le idee girano i libri circolano però ognuno ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della chiesa voglio dire dei dotti di quelli che sono che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza ognuno ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni o non sono buoni e se non sono buoni si assume la responsabilità individuale di impedire che circolino. Dunque Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo non è solo la bibbia che sa memoria lui ha una biblioteca nella testa appartiene a un gruppo sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico ma dal punto di vista morale spirituale la cultura è la loro identità questa è gente che scrive parla e pensa in latino pensa anche nel suo dialetto Salimbene pensa nel suo dialetto di Parma si vede benissimo dal latino che scrive però sa anche pensare parlare e scrivere in latino e questa capacità che ti distingue dalla gente qualunque è un elemento importante dell'identità di questi frati è talmente importante che anche il loro nemico principale il diavolo condivide questo orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto c'è una storia che racconta Salimbene che da questo punto di vista è esemplare c'era un frate dice che conosco a un certo punto gli hanno portato un indemoniato gli hanno portato un indemoniato un contadino un villano un uomo rozzo posseduto dal diavolo il frate gli si mette davanti dice beh però bisogna controllare perché non è mica sempre che sia così è bisogna vedere se davvero questo è posseduto dal diavolo e il frate dice diavolo se sei lì dentro dimostramelo parlami in latino e il diavolo per bocca del contadino comincia a parlare in latino e fa degli errori di grammatica e il frate comincia a prenderlo in giro dicendo ma fammi ridere tu sapresti parlare latino ma senti che latino parli non vale niente e il diavolo che condivide perfettamente il sistema di valori dei frati si arrabbia e gli dice testualmente io so parlare latino bene quanto te e solo che con la bocca di questo contadino come si fa a una lingua talmente rozza che non ci riesco a parlare bene con la sua bocca ovviamente questo ideale diciamo di un'elite dotta di un'elite culturale orgogliosa della sua cultura è anche un rischio l'orgoglio della cultura diventa facilmente presunzione salimbene lo sa ci casca anche lui spesso non si contano i momenti quelli dice io la bibbia la conosco non mi possono mica fregare questo orgoglio è un rischio lui se ne rende conto racconta anche varie storie che mostrano come insomma un grande predicatore deve stare attento perché il rischio della presunzione è sempre lì pronto ci sono un paio di aneddoti che lui racconta su un grande predicatore del suo tempo fra giovanni da vicenza il quale un domenicano quindi sui domenicani appunto viene si raccontano volentieri storie insomma che non li mettono tanti in buona luce fra giovanni da vicenza un grande predicatore è uno di questi uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente far piangere la gente quando vogliono a comando ecco gente così si inorgoglisce un po di essere così brava fra giovanni da vicenza a un certo punto si era convinto di essere santo e fin lì passi si era convinto di saper fare i miracoli da solo senza neanche bisogno che dio intervenisse e soprattutto voleva che gli altri lo ammirassero come un santo dice salimbene un giorno fra giovanni da vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani già che c'era ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba come reliquie i francescani dopo un po di questo fra giovanni da vicenza non ne possono più e salimbene racconta con grandissimo godimento quello che è successo dopo dice c'era uno dei nostri frati un fiorentino dice salimbene frate dio ti salvi da firenze e salimbene dice questo è molto interessante si sa che ai fiorentini piace sfottere piace beffare che sono dei gran burloni ecco siamo 50 anni prima di boccaccio ma è già uno stereotipo i fiorentini sono così a loro piace fare scherzi anche cattivi allora dice salimbene con grande divertimento e approvazione il nostro frate dieti salvi è andato al convento domenicano dove c'era fra giovanni l'hanno invitato a pranzo lui dice sì sì va bene resto a pranzo però voi qui avete il santo voi qui avete il santo io non posso andare via senza una sua reliquia se volete che resti a pranzo datemi una reliquia del santo un pezzo della sua tunica un brandello della sua tunica e i domenicani contentissimi che il loro santo sia così ammirato vanno prendono una vecchia tunica ritagliano un pezzo e gli danno un pezzo della tunica dopodiché racconta salimbene ripeto con grande divertimento ed entusiasmo mangiano dopo avere ben mangiato frate dieti salvi va a espletare le sue funzioni corporali va alle latrine voi mi scuserete ma come dire questa gente del medioevo sapeva coniugare un'altezza intellettuale a volte vertiginosa con un grande interesse per la corporalità per il basso per le cose più ignobili anzi per loro era importante l'equilibrio fra queste due cose pensate a dante ecco e qui è la stessa cosa quindi salimbene racconta e io racconto il frate dieti salvi va alla latrina e naturalmente poi si pulisce con il pezzo di tonica del santo che gli hanno appena dato e poi la lascia cadere e si mette a gridare ai aiuto aiuto perso la reliquia venite aiutarmi a tirarla fuori e arrivano tutti i domenicani di corsa a cercare di tirarla fuori e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia capiscono quello che sta succedendo e se ne vanno tutti scornati e salimbene di fronte a queste storie è entusiasta ora cosa vuol dire vuol dire appunto stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione vuol dire stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito della cultura ma ci sono anche il corpo la materialità e quelle cose esistono e contano non si possono ignorare e vuole anche dire i domenicani comunque sono un po' peggio di noi francescani e questo è indiscutibile l'altra grande certezza che c'è nella testa di salimbene è che i francescani sono l'organizzazione più meravigliosa che esista al mondo sono loro che fanno tutto il lavoro la chiesa vive su di loro essere un francescano è la cosa più importante che si può immaginare non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza tanto che il metro di giudizio di salimbene per giudicare le persone spesso è quello lì un vescovo un papa ha voluto bene i francescani quelli che hanno voluto bene i francescani li hanno trattati bene gli si perdona tutto perché i francescani sono comunque il meglio che ci sia e quindi la concorrenza invece è la concorrenza ovviamente da fastidio i domenicani ancora ancora adesso scherzato sui domenicani ma sono un grande ordine fratello sono i mendicanti anche loro ma ce n'è ben altra di concorrenza perché all'epoca di salimbene l'idea di san francesco di creare un movimento di gente che rinuncia alla ricchezza che va in giro coi sandali o scalza di gente che pratica la povertà degli apostoli che imita cristo questa idea la stanno imitando in tanti e l'altra cosa che c'è ben ferma nella testa di salimbene è che attenzione perché noi francescani abbiamo un esempio preciso san francesco ci ha insegnato come si fa questa cosa ma non è che il primo venuto adesso si mette un paio di sandali e pretende di fare come noi questa è una vergogna è una cosa scandalosa quando salimbene pensa queste cose perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare questa concorrenza sleale c'è un movimento in particolare che lui conosce bene perché è nato a parma è un movimento che si chiama il movimento degli apostolici l'ha fondato uno che si chiama frate gerardino segalelli questo dice salimbene uno che voleva diventare francescano ma era un cialtrone e non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento si è creato il suo ordine nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli dice salimbene sapete tutti come li rappresentiamo no coi sandali il mantello avvolto intorno alle spalle lui ha visto quello ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato questo movimento che sono dei buffoni degli analfabeti dei porcai dei guardiani di pecore che si sono messi in testa di fare come noi francescani in realtà non sanno niente sono analfabeti non servono a nulla non dicono messa non pregano per i loro benefattori non danno buoni consigli non sanno disputare non conoscono la bibbia sono completamente inutili stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne eppure dice salimbene la gente da più elemosina a loro che a noi e il mondo alla rovescia e questo gherardino segalelli appunto vi cito una cosa di lui perché qualcuno di voi la riconoscerà dice salimbene gherardino segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro voleva lanciare un'esortazione uno slogan alla gente che lo ascoltava voleva dire fate penitenza penitenziam agite ma siccome il latino lo masticava male borbottava una cosa e veniva fuori penitenzi agite ecco qualcuno si ricorderà che umberto eco ha ripreso testualmente questo brano di salimbene nel nome della rosa e poi anche nel film è lo slogan che racconta che è sempre in bocca a salvatore e al suo movimento di perseguitati ecco eco ha attinto a piene mani a salimbene per il nome della rosa e dunque e dunque salimbene io sono sicuro che tutte le cose che ho detto di lui finora non lo so ecco non sono sicuro ma non so quanto lo rendono simpatico certamente diciamo è un arrogante intellettuale sicuro di appartenere a un elite di padroni del mondo che hanno le risposte a tutto e che devono predicare parlare farsi ascoltare c'è da dire che salimbene per diventare francescano ha fatto delle rinunce che credo pochi sarebbero stati disposti a fare perché salimbene di nascita era un gran signore salimbene era un aristocratico di una grande famiglia di cavalieri di parma quando noi pensiamo ai comuni italiani non dobbiamo immaginarci soltanto questi comuni italiani pieni di laboriosi mercanti e di artigiani intenti a far soldi non è così nei comuni italiani del medioevo i mercanti e gli artigiani e i soldi c'erano e come ne parleremo anche domani ma accanto a loro c'erano i nobili i nobili cavalieri gente grandi famiglie aristocratiche fiere del loro sangue dei loro cavalli delle loro armi gente che sapeva fare la guerra quelli che costruivano le torri nelle nostre città medievali uomini abituati a farsi giustizia da soli a vendicarsi con la violenza dei torti subiti salimbene nasce in quell'ambiente a proposito della vendetta a un certo punto salimbene scappa questa cosa dice a parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo e anch'io sono di parma dice salimbene ora salimbene è di una grande famiglia nobile e suo padre il cavaliere messer guido de adam quando ha saputo che suo figlio si era fatto francescano ha dato di matto perché il nobile cavaliere aveva due figli uno il maggiore si era già fatto francescano c'è il secondo va bene rimane il secondo anche al secondo salimbene viene in mente di farsi francescano per un nobile è una tragedia rimani senza figli rimani senza nessuno che raccolga la tua eredità voi dovete pensare che per i nobili dell'epoca la famiglia la stirpa il lignaggio il sangue la discendenza ecco lasciare qualcuno che subentri a me col mio cognome la mia insegna questa è una cosa fondamentale nella mentalità aristocratica e salimbene che era l'erede di un nobile cavaliere ha deciso a 17 anni di mollare tutto e andare coi frati questa è una cosa che non come dire non capiremo mai abbastanza quanto è stata grossa e quanto è stata pesante e infatti è stata pesante perché la famiglia ha cercato di impedirglielo quando salimbene scappa di casa e va con i francescani certo i francescani sono già un grande ordine importante influente però è pur sempre gente che va in giro scalza a mendicare di porta in porta agli occhi di un cavaliere è una vita vergognosa e per di più il mio unico figlio mestre guido de adam si muove e siccome appartiene all'alta aristocrazia si muove da par suo si rivolge direttamente all'imperatore federico secondo e gli dice guarda che mio figlio è scappato coi frati fammelo restituire questo è il livello a cui si muove la famiglia di salimbene e l'imperatore federico scrive al generale dei francescani frate elia dicendogli così e così mi risulta tu vedi questo ragazzo cerchiamo di restituirlo al padre a meno che non voglia a tutti i costi restare lì e con questa lettera mestre guido de adam va al convento dove si trova salimbene è finito nel convento di fano in romagna il padre arriva lì brandendo la lettera dell'imperatore del generale dell'ordine accompagnato da parecchi cavalieri fa irruzione nel convento e dice ai frati voglio parlare con mio figlio e gli portano il figlio e il padre gli dice ma tu sei il mio erede erediti tutto cosa stai qua torna a casa e salimbene che racconta questa storia 50 anni dopo quando ormai è vecchio salimbene racconta orgoglioso di aver tenuto duro al padre ha detto nel vangelo sta scritto lasciate il padre e la madre per seguire me e io faccio così più altre citazioni bibliche assortite che vi risparmio voi immaginate un 17enne è l'età in cui col padre si litiga furiosamente anche adesso e si litigava furiosamente anche allora come in ogni epoca quelle tali salimbene al padre dice le cose peggiori dice no non voglio venire e il padre gli dice sono questi qua che te l'hanno messo in testa frati voglio parlare con lui da solo e i frati sono costretti a accettare escono tutti ma dice salimbene stavano dall'altra parte del muro ad ascoltare e il padre rimane solo con salimbene e il padre dice al figlio 17enne testualmente figlio mio non credere a questi piscia in tonaca che ti hanno incantato salimbene che scrive in latino glossa in latino non credere istis pissin tunicis id est qui in tunicis mingunt cioè che orino spiega t'hanno incantato ti hanno messo in testa queste cose torna a casa salimbene tiene duro e dice i frati dall'altra parte erano lì che tremavano come giunchi temendo che io cedessi perché se cedevo io chissà chi altri avrebbe accettato di venire in convento invece io ho tenuto duro tiene duro il padre se ne va maledicendolo maledice lui e l'altro figlio li raccomanda il diavolo non lo vedrà mai più il padre salimbene 50 anni dopo racconta questa cosa detto 50 sì 50 anni dopo racconta questa cosa orgoglioso dopodiché dice anche sono stato premiato quella notte stessa per fortuna ho avuto un sogno che mi ha fatto capire che avevo fatto bene perché evidentemente come dire il trauma anche se lui adesso è così orgoglioso di averlo fatto il trauma c'era di questa rottura totale col padre che lo maledice lo manda all'inferno e per fortuna quella notte racconta salimbene mi è apparsa in sogno la vergine col bambino in braccio e mi tendevano le braccia perché venissi a abbracciarli e io in sogno andavo ad abbracciarli e provavo una dolcezza come non ho mai più provato in vita mia e poi mi sono svegliato e avevo ancora dentro quella dolcezza che non saprei voi sapete quando si fanno certi sogni che ti lasciano dentro ecco queste storie qua si capisce come dire a raccontarle al dottor freud ci sarebbe da tirarne fuori di commenti salimbene non conosceva il dottor freud però come dire per lui e quindi era era davvero la vergine col bambino che gli era apparsa perché aveva visto tutto e voleva dirgli che aveva fatto bene che lei era con lui a ricompensarlo per questo il padre poi ci riprova ci riprova ancora va dal papa sono perfino mezzi parenti col papa talmente importante la famiglia e salimbene in seguito gliel'hanno detto guarda che tuo padre era andato anche dal papa per convincerlo a darti fuori dall'ordine francescano e qui salimbene dice una cosa caratteristica dice io non credo che il papa avrebbe accettato ma forse per far piacere a mio padre mi avrebbe dato un episcopato cioè mi avrebbe fatto vescovo e si vede che questa cosa qui un pochettino gli rimane poteva anche succedere che diventavo vescovo e invece non è successo e pazienza dopodiché non finisce qui il trauma dell'essere entrato nell'ordine francescano ecco io credo che sia importante dire questo siccome noi vediamo salimbene frate importante uomo che ha contatto con papi e vescovi uomo che conta uomo di potere è importante ricordare che quest'uomo di potere va scalzo e va in giro a mendicare per vivere e che questa cosa lui l'ha vissuta come un trauma pesantissimo a un certo punto e l'hanno mandato a mendicare a fare la questua e lui si vergognava come un ladro a andare di porta in porta a fare la questua era a pisa in quel momento era nel convento di pisa faceva la questua e lui racconta mi trovavo in quella certa strada stavo da un lato da un certo lato della strada perché dall'altra parte c'era il fondaco dei mercanti di parma e io volevo evitare di incontrare qualcuno di parma perché mi vergognavo troppo con la gente che conoscevo dunque faceva la questua a pisa e a un certo punto ha la sfortuna che incontra davvero uno di parma lo stesso dice mi viene incontro uno che era di parma che io non conoscevo ma lui mi conosceva perché salimbene di una famiglia importante e questo lo prende per il saio e comincia a dirgli ma disgraziato ma cosa ci fai qui ma guardati come ti sei ridotto a casa di tuo padre è pieno di servi che hanno da mangiare a sazietà e tu stai qua a mendicare a portare via il pane a quelli più poveri di te e poi continua e dice salimbene riferisce parola per parola dice tu a quest'ora dovresti essere a parma a andare in giro a cavallo a farti vedere nei tornei a far felice la gente che assiste ai tornei perché i nobili cavalieri cosa fanno è quello a farti ammirare dalle dame e a dar mancia ai giullari questo dovresti fare tu adesso non stare qui scalzo a battere alle porte a mendicare salimbene quella volta lo respinge lo caccia via in malo modo gli cita un po di passi biblici però poi dice quella sera al convento mi sono messo a pensarci mi sono detto ma certo che se poi mi tocca andare avanti altri 50 anni così a mendicare dice quella volta lì se l'è chiesto davvero se non aveva sbagliato tutto nella vita per fortuna anche quella notte gli arriva un sogno sogna che è a pisa a mendicare e a un certo punto lì un po più in là nella stessa strada c'è gesù bambino che va anche lui con la sport a mendicare e la vergine che va anche lei con la sport a mendicare e allora capisce che dopo tutto sta facendo la cosa giusta e questi sogni arrivano sempre appunto ripeto il dottor freud ci potrebbe assistere questi sogni arrivano sempre al momento giusto ultima rinuncia che non possiamo non menzionare gravissima dice salimbene la prima sera che sono entrato dai francescani mi ha dato una magnifica cena a partire dal giorno dopo solo cavoli ho mangiato cavoli tutti i giorni della mia vita e dice salimbene signorino di buona famiglia ben allevato e io prima a me prima i cavoli facevano talmente schifo che non mangiavo neanche la carne se era stata cotta con i cavoli ed allora invece cavoli tutti i giorni bene salimbene dunque appunto figlio di una grande famiglia nobile ha fatto una scelta che l'ha portato molto lontano dalla sua famiglia tuttavia di questa nascita ha conservato alcune caratteristiche proprio di modo di pensare di sistema di valori e io direi che la cosa che colpisce di più leggendo salimbene che lui è rimasto un nobile cavaliere da un punto di vista che per lui la vera misura degli uomini sono la cortesia o la villania gli uomini che a lui piacciono sono quelli cortesi cavallereschi generosi ben educati mentre quelli maleducati rozzi avari villani ecco quelli non li può proprio sopportare e questi sono i valori dell'ambiente cavalleresco del mondo cortese in cui lui è nato sono quelli i valori in base a cui giudica gli uomini non il fatto che siano dei peccatori o no perché tutti sono dei peccatori figuriamoci salimbene a vista di tutti i colori non si fa nessuna illusione la gente gli uomini sono quello che sono anche il clero è quello che è salimbene davvero non si fa nessuna illusione lui ha visto in vita sua di tutto ha visto perfino un vescovo ateo ha visto il vescovo di parma che in punto di morte quando gli portavano i sacramenti ha detto ma no io non li voglio tanto non ci credo e quando gli hanno chiesto ma allora perché hai fatto il vescovo ha risposto beh per le ricchezze e per gli onori quindi salimbene ha visto tutto ha sentito raccontare di tutto su papi arcivescovi podestà imperatori principi re lui è un intercalare preferito quando racconta qualcosa di veramente enorme che gli è stato riferito di qualche personaggio importante lui dice ipse viderit se la vedrà lui perché poi ognuno se la vedrà individualmente al momento buono quando comparirà davanti al suo creatore e quindi ognuno se la vedrà anche se è il papa noi non dobbiamo rispettare nessuno se non c'è motivo e questo crea una libertà di giudizio che è importante appunto nell'atteggiamento di salimbene se un potente pieno di vizi però è generoso liberale cortese beh può andar bene tutto sommato l'arcivescovo di ravenna filippo aveva due nipoti ma uno era suo figlio e questo figlio e anche l'altro nipote prendevano tangenti se uno gli faceva dei regali poi dall'arcivescovo teneva tutto quello che voleva appalti concessioni e tuttavia aveva anche una figlia che ha messo in convento ma tuttavia l'arcivescovo di ravenna era un gran signore ospitale generoso trattava bene la gente salimbene l'ha conosciuto lui l'ha sempre trattato bene lo invitava a pranzo dava dai grandi pranzi dava da mangiare a tutti beveva del buon vino ne dava a tutti quando diceva l'ufficio nel suo palazzo andava avanti e indietro nella stanza l'arcivescovo di ravenna e ogni angolo della stanza aveva una caraffina di vino in fresco dentro dell'acqua gelida e quando arrivava all'angolo si rinfrescava un po' e poi ricominciava a dire l'ufficio di vino ma invitava era cortese e beneducato non come frate Elia il generale dell'ordine francescano che un giorno quando un gran signore è andato a trovarlo frate Elia l'ha ricevuto seduto a tavola su un divano pieno di imbottito di cuscini con un bel fuoco acceso il berretto in testa e frate Elia generale dei francescani all'ingresso di un salimbene ecco tutti hanno detto uno così ecco non ci sono parole non si può essere così la maleducazione la villania e l'avarizia sono le peggiori cose che si possono immaginare io dovrò tagliare signori miei perché qui si fa tardi ve l'ho detto che sono 900 pagine vero la cronaca di salimbene ci sono alcune cose che voglio raccontare per forza e quindi scorcerò qua e là vorrei fermarmi un pochino su questo fatto del cibo del mangiare perché è di nuovo importante insomma il mio impegno è anche di provare a farvi capire cosa hanno in testa queste persone ecco il mangiare e il vino sono cose importanti questo è un mondo ancora semplice dal punto di vista materiale è un mondo ancora povero dove il ricco è ancora quello che mangia in abbondanza e dunque le persone si giudicano anche da quelle queste cose sono importanti sono importantissime qual è un comportamento che salimbene giudica fantastico gli hanno raccontato che il re d'inghilterra un giorno era fare un picnic picnic lo diciamo noi ma insomma era in campagna si era messo a mangiare su un prato con i suoi cavalieri portano il vino sono vicino a una fontana di vino c'è soltanto un fiasco e il re dice ma scusate ma c'è solo questo fiasco di vino che si non ce n'è altro ci sono tutti i cavalieri intorno e allora il re dice berremo tutti insieme e verse il fiasco di vino nella fonte dicendo ognuno può bere lì il vino e l'acqua mescolati questa cosa per salimbene è un gesto fantastico perché vuol dire un uomo veramente cortese veramente ben educato che si mette al livello degli altri non come fanno certi vescovi dice salimbene i quali se ne stanno a casa bere e mangiare non invitano nessuno e se hanno gente a banchetto con loro il vino migliore lo beve solo il vescovo e agli altri danno quello cattivo oppure il vescovo beve gli altri niente quando dice salimbene berrebbero tutti volentieri perché tutte le gole sono sorelle sul vino potremmo continuare perché il vino è un tema importante appunto salimbene a un certo punto raccontano che in borgogna si fa più vino che a cremona parma reggio e modena messe insieme dice non ci ho mica creduto mi sembrava impossibile poi ha fatto un lungo viaggio in francia che racconteremo adesso finiremo con quello ha fatto un lungo viaggio in francia è stato in borgogna e ha visto dice è una cosa da non credere l'intero paese è un unico vigneto lì non ci sono campi non coltivano il grano niente fanno solo vino lo vendono a parigi vivono benissimo di quello e il vino di borgogna sul vino di borgogna ci sono pagine in salimbene liriche il vino bianco di borgogna perché a quell'epoca i nobili bevono volentieri il vino bianco il rosso è una roba da cafoni ma il bianco è il bianco di borgogna dorato profumato certo poi dice salimbene i francesi esagerano perché i francesi sono degli sbevazzoni bevono bevono troppo quando hanno bevuto credono di poter spaccare il mondo sono insopportabili dice a dire la verità bevono poi si svegliano al mattino con gli occhi rossi ci sposi per tutto il vino che hanno bevuto vanno alla prima messa vanno dal sacerdote e gli dicono gli chiedono un po dell'acqua in cui lui ha fatto le abluzioni rituali che gliela metta negli occhi per piacere perché pensano che con quell'acqua consacrata gli guariscono gli occhi rossi per il troppo bere e io dice salimbene una volta quando ero in francia ho conosciuto un frate che quando uno è venuto a chiedergli l'acqua da mettere negli occhi gli ha detto ma va via mettete l'acqua nel vino non negli occhi dopodiché sapete come sono organizzati i francescani in francia salimbene lo sa e ce lo dice dice la provincia di francia dell'ordine francescano è divisa in otto custodie in otto settori di cui quattro bevono vino e quattro bevono birra questa è la spartizione fondamentale voi sapete una delle grandi spaccature dell'europa fra l'europa del vino e l'europa della birra ora il cibo ha una funzione simbolica è evidente ho parlato del vino finora parliamo anche del cibo salimbene ha fatto questo viaggio in francia di cui vi parlavo e durante questo viaggio in francia ha avuto tante avventure ha conosciuto tanta gente ha incontrato più volte il re luigi luigi nono il santo che proprio allora andava incrociata questa è stata un'esperienza grossa perché salimbene anche se uno disilluso non si aspetta niente dalla gente sa che succede il peggio però sa riconoscere gli uomini santi e ha un'ammirazione profonda per chi riesce a essere santo ecco il re luigi era uno così il re luigi è andato incrociata è partito dalla francia del nord per andarsi a imbarcare a egg morti in provenza ha attraversato tutto il regno a piedi non a cavallo a piedi col bastone e la bisaccia da pellegrino perché andare incrociata significa innanzitutto andare in pellegrinaggio andare a gerusalemme quindi il re di francia ha passato mesi e mesi a attraversare a piedi il suo regno in abito da pellegrino fermandosi nelle città fermandosi nei conventi dei frati a mangiare con loro a discutere con loro a parlare con loro salimbene l'ha incontrato diverse volte durante questo suo viaggio una volta stavano uscendo dalla città di sans incontro al re il re arriva e il vescovo di sans gli manda un regalo cosa si manda in regalo a un re questa appunto è un'epoca semplice è un'epoca in cui le cose semplici concrete quotidiane contano il vescovo in regalo al re manda un grande luccio vivo dentro una tinozza piena d'acqua e questo è un regalo degno di un re salimbene dice ai francesi il luccio piace a lui evidentemente lui non è un mantovano è di parma a lui il luccio non piace ma dice ai francesi il luccio piace stava dentro quella roba che si usa per lavare i neonati quando uno toglie le fasce deve lavarli quella roba che i toscani chiamano bigoncia perché interessa molto anche la lingua salimbene ha sempre delle notazioni sugli usi delle parole ecco al re si regala un luccio ed è un regalo degno di un re dopodiché il re entra nel convento dei francescani e parla con loro e gli dice che lui non è venuto a chiedere soldi la crociata la paga lui è venuto a chiedere soltanto le loro preghiere e dice salimbene tutti i frati francesi piangevano lui che è italiano un po meno coinvolto naturalmente specialmente dal fatto di non chiedere i soldi ma comunque tutti i francesi piangevano dopodiché vanno a pranzo col re e il pranzo del re io vediamo se lo ritrovo il pranzo del re è questo salimbene se lo ricorda ancora molti decenni di distanza cosa hanno mangiato quel giorno col re il modo di concepire un pranzo della gente di quell'epoca era molto diverso dal nostro i gusti erano diversi soprattutto non c'era la nostra idea diciamo di una gradazione per cui si comincia con i salati poi si passa ai dolci no loro mescolavano volentieri cose diverse questo hanno mangiato quel giorno era un giorno di magro si mangiava pesce è stato dice salimbene un pranzo magnifico degno di un grande re e tuttavia al tempo stesso vedrete non è stato un banchetto da ricco e pulone è una cosa degna di un grande re che però è anche un grande santo dice per prima cosa quel giorno abbiamo mangiato ciliegie poi hanno portato il pane bianco bianchissimo e il vino poi sono venute fave fresche cotte nel latte poi pesci e gamberi e polpette di anguilla poi riso con latte di mandorle e polvere di cinnamomo poi anguille alla braccia con un'ottima salsa torte salate giuncata frutta un grande pranzo però appunto per chi faccia i confronti con altri pranzi di cui parla salimbene questo appunto è un pranzo che è degno della magnificenza di un re ma al tempo stesso non smentisce l'umiltà di quest'uomo che è un santo e sta andando a piedi a imbarcarsi perché salimbene ne conosce ben altre di storie di pranzi e di menù che non sono altrettanto dignitose per esempio il modo in cui il patriarca di aquileia celebra la quaresima salimbene lo racconta dice patriarchi di aquileia farebbero meglio cambiare sistema veramente comunque dice mi risulta che fanno così quaresima dura 40 giorni deve preparare al grande momento dalla grande tristezza e del venerdì santo e poi alla gioia della resurrezione dura 40 giorni è un cammino di avvicinamento quindi il patriarca di aquileia la quaresima la celebra così sono 40 giorni il primo giorno fa servire un pranzo di 40 portate il secondo giorno 39 il terzo 38 e in questo modo arriva al sabato santo con una sola portata e si è veramente avvicinato gradualmente al digiuno e alla penitenza dice salimbene veramente cristo ha digiunato 40 giorni e 40 notti nel deserto e i patriarchi di aquileia farebbero meglio ricordarselo ecco io sono arrivato quasi alla fine anzi alla fine del mio tempo quindi chiuderò rapidamente ci sono tante cose ancora di salimbene che andrebbero dette qualcuna l'ho messa addirittura nel programma del nostro festival e non l'ho ancora detta il fatto che ogni tanto gli scappano anche dei giudizi ingenerosi indubbiamente perché lui è un gran signore che non guarda in faccia nessuno le cose le dice come stanno se deve dire male di un papa dice male di un papa se deve dire male di un popolo dice male di un popolo non gliene importa niente nella nostra italia di oggi così spaccata così attraversata da tensioni anche regionali magari non fa ridere però ormai l'ho messo nel programma del convegno del convegno del festival quindi lo diciamo lo stesso salimbene a un certo punto se la prende con quelli dell'italia meridionale dice quelli dell'italia meridionale sta raccontando all'epoca in cui i normanni hanno conquistato l'italia del sud dice i normanni l'hanno conquistata facilmente perché quelli lì non sanno combattere non sono capaci non valgono niente quelli lì pugliesi siciliani dice ve lo dico nel latino di salimbene voi scoprirete di sapere tutti il latino di capirlo perfettamente sunt homines caccarelli et merdazzoli e poi fa un'altra annotazione dice parlano in un modo strano quelli del sud parlano nella gola quando vogliono dire che vuoi dicono che boli da questo impariamo se non altro che già allora gli italiani appunto erano faziosi e non amavano niente quanto dir male gli uni degli altri io mi fermerei piuttosto sulla notazione linguistica come vi dicevo salimbene è molto sensibile alla lingua ci sta attento nella cronaca spesso cita frasi in francese che ha sentito orecchiato e poi osserva delle cose per esempio l'uso dei pronomi dice il tu e il voi dovrebbe essere regolamentato si dà del tu in certi casi e si dà del voi in certi altri in lei non esisteva ancora nell'italiano di allora o il tu o il voi salimbene dice però in realtà in italia non si fa mica così ogni zona d'italia fa a modo suo quelli del sud e di roma danno del tuo a tutti danno del tuo anche al papa poi magari lo chiamano messer ma gli dicono tu messer papa e invece i lombardi e dicendo i lombardi lui intende anche se stesso tutti gli italiani del nord lombardi nell'italiano di allora significa tutta l'italia del nord i lombardi dice salimbene danno del voi a tutti dare del voi a un bambino va bene ma i lombardi danno del voi anche a una gallina a un gatto darebbero del voi anche un pezzo di legno e qui e qui chiudo davvero l'ultimo aspetto della mentalità di salimbene che mi pare il caso di sottolineare la sua estrema curiosità lui è attento a tutto è attento a cogliere le cose strane è attento a cogliere le cose nuove è attento a raccogliere le notizie che arrivano è attento a notare le differenze in campo alimentare per esempio a un certo punto verso la fine lui è vecchio ormai va per i 70 a un certo punto lui dice certo che la golosità umana non ha proprio limiti diventiamo sempre più golosi si inventano sempre cose nuove quest'anno alla festa di santa chiara ho mangiato per la prima volta ravioli senza crosta di pasta cosa voglia dire questo a me ha lasciato molto perplesso devo dire inizialmente pensavo che volesse dire il raviolo senza la sfoglia intorno c'è soltanto il ripieno del raviolo poi mi son detto che probabilmente un po diverso nel medioevo cucinavano molto volentieri le cose al forno dentro le torte salate di sfoglia il pai inglese pieno ripieno di carne ecco che noi consideriamo un po barbaro in effetti è un piatto medievale rimasto tale quale loro cucinavano volentieri così dunque può anche darsi che lui fosse abituato a mangiare i ravioli cotti passati poi al forno dentro una torta salata e che lì invece per la prima volta gli erano portati senza l'esterno non lo so chiederemo a massimo montanari che cosa come giudicare questo fatto ma il punto che mi interessava sottolineare che lui a lui nulla sfugge ecco e scrive le cose che lo colpiscono le scrive va in francia si accorge che in francia del nord in certe stagioni i giorni sono più lunghi che in italia e in certe altre sono più corti e lo scrive si imbarca a genova per andare in provenza si accorge che il clima è diverso dice sono partito da genova che i mandorli erano in fiore sono arrivato in provenza sui mandorli c'erano già i frutti grossi così provenza fa più caldo evidentemente si trova in francia sempre durante il suo grande viaggio quando era giovane ad accogliere il re fuori dalla città di sans e dice dalla città di sans è uscita la processione delle dame della città ad accogliere il re io le ho guardate mi hanno detto guarda le dame della città le ho guardate mi sono detto ma a me mi sembrano più delle cameriere queste e poi mi sono ricordato che in francia i gentiluomini e i nobili non stanno in città stanno nei loro castelli non è come da noi in italia che nelle città vivono i nobili cavalieri qui nelle città ci vivono soltanto i mercanti gli artigiani e si capisce che le loro donne fossimo stati a parma le dame di parma avrebbero fatto tutta un'altra figura dunque la curiosità l'attenzione alle differenze sempre in un clima diciamo però di conoscenza di come sono gli uomini però una conoscenza e l'ho già detto otto volte lo dico per la nonna qui davvero chiudo una conoscenza che comunque secondo me giudica raramente ed è sempre attenta a cogliere gli aspetti umani delle cose e in questo lui è molto diverso per esempio dall'imperatore federico secondo l'imperatore federico secondo che lui appunto ha conosciuto a cui ha voluto anche bene poi pensava che fosse lui l'anticristo poi ha saputo che era morto ci è rimasto malissimo ecco l'imperatore federico secondo era un uomo fuori dal normale aveva anche lui delle curiosità ma era delle curiosità malsane erano delle curiosità di uno che non è non è tanto umano ne racconto solo una che racconta salimbene dice l'imperatore federico secondo a un certo punto si è messo in testa di capire qual è la lingua primigenia dell'umanità perciò ha preso dei bambini neonati e ha dato ordine alle nutrici di allevarli senza però fargli nessuna coccole senza parlargli mai voleva vedere in che lingua avrebbero parlato se avrebbero parlato in greco o in latino o in ebraico o in arabo o magari nella lingua dei loro genitori ma dice salimbene ha sprecato il suo tempo perché quei bambini morivano tutti e poi salimbene dice questa cosa che a me sembra straordinaria per forza morivano tutti perché i neonati non possono vivere senza le coccole e i sorrisi e i battiti di mano e le carezze e le chiacchiere delle nutrici non possono e questa cosa l'imperatore federico secondo che era un genio beh lui non era abbastanza umano per capirla evidentemente invece salimbene con tutti i suoi difetti è abbastanza umano da capirla da saperla e dunque appunto quello che io spero di essere riuscito a trasmettere è che quest'uomo che sotto tanti aspetti era tanto diverso da noi e che era pieno di difetti però insomma ecco ci ha lasciato un'opera dentro in cui da cui viene fuori un uomo insomma ecco un uomo tutto a 360 gradi io ve ne ho potuti dare soltanto degli assaggi dei pezzetti però è un uomo che quando uno legge quelle cose impara a conoscere diventa uno che conosci e io spero insomma un pochino di avere trasmesso qualche cosa di questo stasera grazie 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 bene buonasera di nuovo allora questa sera io mi ero impegnato a parlarvi mi sono impegnato a parlarvi di un mercante del medioevo a cercare di capire come pensava e come vedeva il mondo un mercante del medioevo questo mercante è dino compagni che è un mercante fiorentino vissuto fra 200 e 300 più o meno contemporaneo di dante e che ci ha scritto un piccolo libro chi c'era ieri sera ricorda che fra salimbene ha scritto una cronaca di 900 pagine ecco dino compagni ha scritto un piccolo libro molto più maneggevole in cui ha voluto raccontare certe cose importanti che sono successe a firenze quando lui non solo abitava lì ma era anche un uomo che contava a firenze dino e in questo senso mi sono detto che forse a pensarci meglio anziché dirvi come pensava come vedeva il mondo un mercante del medioevo avrei forse fatto meglio a dire come vedeva il mondo un politico del medioevo perché in realtà dino è innanzitutto un uomo di politica il dino che si racconta in questa cronaca è innanzitutto uno che ha fatto politica a firenze e che ci racconta cosa voleva dire fare politica nella firenze dei comuni nella firenze dei guelfi e degli bellini dei bianchi e dei neri non era uno scherzo fare politica in quel mondo beninteso dino naturalmente è un mercante è un imprenditore è un imprenditore che appartiene alla corporazione di por santamaria che ha questo nome un po' curioso è una corporazione fiorentina che si occupa di grande commercio che si occupa di import export di panni dino ha una sua ditta importante è un uomo ricco però è un uomo che per una certa fase della sua vita fa politica si trova al governo della città poi le cose gli vanno male la sua parte viene sconfitta viene buttato fuori dalla politica continua a vivere a firenze continua a fare il suo mestiere di imprenditore e però ha dentro questa cosa che lo rode che lui per un po' di tempo è stato al potere ha cercato dice lui di evitare che le cose andassero così male come stanno andando e adesso che vede che le cose vanno veramente male e lui rimpiange un po' gli anni in cui è stato seduto su quelle poltrone e aveva la possibilità di incidere insomma e dice almeno mi è venuta voglia di scrivere di scrivere per raccontare se non altro quello che ho visto che non sono cose edificanti per niente dice mi è venuta voglia di scrivere per un po' di tempo ho tenuto duro perché dicevo tanto non sono capace è un mercante non sa il latino non è come fra salimbene che abbiamo conosciuto ieri sera che il latino lo sa perfettamente pensa in latino è in grado di scrivere no no dino scrive in italiano sa leggere e scrivere come sa far di conto perché un uomo di commercio un uomo d'azienda deve saper tenere i conti ma il latino non lo sa o lo sa poco lui scrive in italiano in toscano dice pensavo di non essere capace poi soprattutto dice ho lasciato perdere per un bel po' credendo che altri scrivesse e questa è una cosa che secondo me significativa a me ha colpito voi capite siamo in un mondo dove non ci sono i giornali la televisione non c'è niente succedono grandi avvenimenti la politica ha i suoi conflitti anche violentissimi ci sono grandi cambiamenti nel potere nel governo avvengono queste grandi cose e in futuro cosa ne sapranno e in futuro ne sapranno qualcosa se qualcuno scrive perché se non c'è qualcuno che scrive si perderà la memoria di tutto questo e dino dice io credendo che altri scrivesse per molto tempo ho lasciato perdere poi gli è venuta voglia di scrivere lui di dire la sua e quindi dice la sua però appunto la sua è la voce di un uomo che è stato in politica che è stato influente che poi a un certo punto ha perso è stato buttato fuori e quindi noi ovviamente ci dobbiamo fare la tara sui giudizi di valore però a noi non interessa qui decidere se era meglio i guelfi o i ghibellini meglio i bianchi o meglio i neri qui come dire la scommessa è provare a capire come vedeva il mondo dino compagni mercante della corporazione di por santa maria al tempo di dante e allora e allora cominciamo a raccontare come mai un mercante come dino compagni un imprenditore si trova a un certo punto al governo della città non è una cosa così ovvia perché non voglio richiamarmi sempre a quello che ho detto ieri perché magari tanta gente che c'è qua giustamente ieri non c'era però ieri abbiamo parlato di un frate francescano che però era di nobile famiglia apparteneva a una grande famiglia di cavalieri di parma ecco nei comuni italiani c'era una nobiltà di grandi famiglie nobili gente che aveva degli antenati uno stemma delle terre dei castelli delle torri in città dei cavalli delle armi l'abitudine a combattere l'abitudine a partecipare ai tornei questi gentiluomini come li chiamavano loro per tanto tempo erano stati quelli che avevano comandato nelle città comandavano loro i mercanti stavano a bottega stavano al fondaco gli artigiani stavano a lavorare nei comuni comandavano i nobili comandavano i cavalieri e l'ammirazione per i nobili per i cavalieri per questa gente che appartiene a un mondo superiore socialmente dico fa ancora parte della visione del mondo di dino compagni dino compagni che è un mercante non è uno di loro e anzi con loro lo vedremo non avrebbe neanche nessun interesse in comune anzi con i nobili lui quando è in politica ha in realtà degli scontri durissimi però per un uomo di quell'epoca i gentiluomini i cavalieri sono ancora qualche cosa insomma di fronte a cui istintivamente uno si leva il cappello davanti ai cavalieri voi pensate che a firenze ci sono una serie di abitudini vino le racconta una volta era un funerale si seppelliva una donna dei frescobaldi c'era un sacco di gente in piazza e come si usa da noi a firenze tutti i cittadini sedevano a terra su stuoie nel medioevo avevano pochi mobili e si sedevano a terra con una facilità una disinvoltura con cui oggi noi non lo faremmo più dice dino come si usa da noi a firenze al funerale tutti i cittadini erano seduti per terra su stuoie tranne i cavalieri e i dottori quelli erano seduti su panche più in alto i dottori sono i laureati dell'università vabbè non mi soffermerò sul fatto che il prestigio dei professori universitari una volta comunque una volta la maggiore comunque in ogni caso i cavalieri e i dottori i laureati in legge i giudici ecco quelli stavano sulle panche gli altri sotto e non è soltanto una questione di onore i cavalieri sono i cittadini che contano di più da tutti i punti di vista a un certo punto a firenze hanno esiliato un certo numero di cittadini per ragioni politiche poi si pentono si accorgono che si sono sbagliati li fanno tornare gli danno un risarcimento dice dino ma di più ai cavalieri e di meno agli altri perché essere cavaliere significa comunque far parte essere l'elite della società i cavalieri voi capite sono necessari mandi un'ambasciata al papa chi ci mandi un ciabattino il ciabattino può anche stare al governo come vedremo a firenze ma nell'ambasciata al papa ci devi mettere dei cavalieri della gente che è abituata a stare in società a frequentare i potenti che è beneducata e poi i cavalieri sono necessari in guerra perché è vero che il comune quando fa la guerra chiama tutti a combattere quindi tutti i cittadini gli artigiani i mercanti tutti organizzati in compagnie di quartiere tutti a piedi con le loro lanci i loro scudi sì però i nobili che sanno stare a cavallo che hanno le armature che passano la vita a combattere nei tornei i nobili cavalieri senza di loro non si fa un esercito sono loro quelli che vincono le battaglie non la massa dei plebei dei borghesi inquadrati nelle loro compagnie di fanti quindi i nobili sono fondamentali per la vita del comune e per tanto tempo hanno comandato loro e i nobili mi accorgo che io vi devo parlare di come vedeva il mondo di no compagni e invece vi sto parlando degli altri di quelli che erano diversi da lui di quelli che lui guardava dal basso e che si trovava sulla testa un mercante di allora viveva in una città italiana e sulla sua testa c'erano i signori c'erano i nobili non importa se il comune democratico e tutti votano i nobili contano i nobili condividono un sistema di valori l'ideologia cavalleresca dove insomma uno deve sapersi sacrificare deve sapersi far ammazzare in battaglia se ce n'è bisogno dove l'onore è al centro di tutto dino compagni a un certo punto racconta una grande battaglia anzi è il punto di partenza della sua cronaca una grande battaglia in cui i fiorentini hanno sconfitto arezzo 1289 la battaglia di campaldino dove ha combattuto anche dante che era un nobile tra i cavalieri di firenze e dino dice quella battaglia è stata durissima c'è della gente che si è fatta ammazzare piuttosto che arretrare c'è anche chi è scappato mentre si pensava che dovesse fare chissà cosa poi invece è scappato ma molti si sono battuti molto bene e dice dino quel mattino prima della battaglia si erano armati dei nuovi cavalieri cioè un certo numero di giovani nobili erano stati addobbati cavalieri con il rituale che trasforma di un uomo qualunque in un cavaliere la spada posata sulla spalla ecco ed è ovvio che un giovane che è stato armato cavaliere quel mattino se poi c'è la battaglia al pomeriggio si fa ammazzare piuttosto che far brutta figura quindi i valori dei cavalieri sono centrali in questa società e per tanto tempo i mercanti come dino se ne sono stati al negozio al fondaco all'impresa a scambiare denaro a scambiare merci a comprare tessuti a fare l'import export sapendo che questo loro lavoro fruttava tanti soldi sì però rispetto alla vita dei cavalieri che vanno in giro a cavallo che hanno le proprietà terriere che non lavorano ecco rispetto a loro un mercante insomma è sempre un po' un poveraccio nella prospettiva ancora di quella generazione dunque per tanto tempo i nobili cavalieri hanno comandato a firenze come in tutte le città italiane e i mercanti come dino sotto a ubbidire e a lavorare e a fare i soldi e a pagare le tasse però i nobili sono anche ingombranti è pesante una città gestita da questo tipo di gente questa gente che va in giro armata che ha sempre la spada al fianco in qualunque momento e che la tira fuori se c'è qualcosa che gli dà fastidio i nobili pensano solo alla guerra sanno farla sanno combattere e hanno la tendenza spiacevole a tirar fuori la spada anche in situazioni dove magari due mercanti si metterebbero a discutere e provare a mettersi d'accordo i nobili no i nobili occupano i posti importanti non solo nel comune nella vita politica ma anche nella chiesa i vescovi sono tutti nobili poi magari sono come quel vescovo di arezzo di cui racconta dino compagni gugielmino degli ubertini il quale dice dino compagni il vescovo di arezzo sapea meglio gli uffici della guerra che della chiesa e in effetti in guerra si farà ammazzare alla testa della cavalleria di arezzo alla battaglia di campaldino questi sono i nobili i nobili sono organizzati in famiglie dino compagni quando descrive la società vede innanzitutto al vertice quello che lui chiama le famiglie se vi evoca un panorama un po mafioso non vi sbagliate perché siamo lì i nobili sono le famiglie perché i nobili hanno tanti parenti un cognome importante spesso solo i nobili hanno il cognome dino compagni ha un cognome perché già un borghese ricco ma la maggior parte dei fiorentini non ha neanche un cognome si chiamano dino di giovanni di andrea di bartolomeo invece i nobili sono i cavalcanti brunelleschi tozinghi e così via i nobili sono le famiglie e ogni famiglia è numerosa dice a un certo punto i cavalcanti c'è stato un litigio tra diverse famiglie contro i cavalcanti e i cavalcanti erano forti solo loro erano 60 uomini capaci di portare le armi voi capite che se uno deve andare in piazza si sta facendo politica dobbiamo andare in piazza e solo della nostra famiglia siamo in 60 che vanno in piazza a cavallo con l'armatura e beh quello pesa e queste famiglie queste famiglie sono pronte ad ammazzare per difendere il loro potere per difendere il loro onore per difendere i loro interessi queste famiglie sono delle consorterie di potere dove non è che ci si vuol bene ma gli interessi sono quelli che tengono insieme tutto c'è un passo straordinario in dino sta raccontando una cosa che è successa ad arezzo c'era appunto quel tal vescovo che vi dicevo prima il vescovo di arezzo che si intendeva più di guerra che di chiesa il quale dice dino c'è a un certo punto c'è stato un problema politico il vescovo ha tradito la sua parte ha tradito la sua famiglia ha cercato di accordarsi con i fiorentini mentre i suoi amici e parenti volevano fare la guerra contro firenze allora dice dino ad arezzo si sono un po' seccati per il fatto che il vescovo stava negoziando col nemico e quindi dice dino come se fosse la cosa più normale del mondo decisero di farlo uccidere dunque il governo di arezzo riunito dice qui il vescovo ci sta dando fastidio quindi lo facciamo ammazzare nel consiglio di arezzo c'è anche un parente del vescovo messer guglielmo de pazzi messer guglielmo de pazzi suo consorto consorte cioè membro della stessa consorteria familiare del vescovo quando sente questa cosa che si discute di farlo ammazzare il vescovo messer guglielmo de pazzi che era nel consiglio disse che sarebbe stato molto contento se l'avessero fatto non l'avendo saputo ma essendo richiesto non consentirebbe cioè in altre parole se lo facevate senza dirmelo a me andava benissimo perché sono d'accordo anch'io che questo vescovo è veramente asseccato ecco però è un mio parente quindi non potete chiedermi che io voti per farlo ammazzare in consiglio comunale mi dispiace ma io non posso votare per farlo ammazzare ecco questo è il modo questo è il modo in cui i nobili fanno politica i nobili fanno politica e hanno sempre la spada al fianco e sono pronti a tirarla fuori e la gente come Dino non ha la spada al fianco i mercanti lavorano fanno soldi non hanno la spada non vanno in giro a cavallo e non hanno neanche tanti parenti quanti ne hanno i nobili Dino compagno in tutta la cronaca non parla mai di un suo parente per i nobili la famiglia è tutto i parenti vengono fuori continuamente tutto gira intorno alla parentela Dino non ne ha di parenti è un uomo che si è fatto da solo ecco è un self made man veramente come tanti di questi popolani di Firenze i nobili hanno gestito Firenze per tanto tempo ma non l'hanno gestita pacificamente perché fra loro si scannano fra loro si scannano per interesse si creano raggruppamenti di famiglie a un certo punto sono nati lo sapete tutti i guelfi e i ghibellini quelli che vorrebbero che il mondo fosse comandato dal papa e quelli che vorrebbero che il mondo fosse comandato dall'imperatore ma in realtà uno diventa guelfo perché la famiglia nobile rivale sta con i ghibellini e quelli ci hanno alle sgarbo ci ricordiamo neanche più veramente però si sa che con quelli siamo nemici e se loro sono ghibellini noi siamo guelfi a Dino compagni di tutto questo non importa niente lui è un uomo d'affari che pensa a fare i soldi a importare i panni dalla Francia però sa che nella sua città per tanto tempo hanno dominato queste fazioni di grande famiglie nobili le maladette parti perché è proprio questa divisione della città in partiti che per la gente come Dino è il punto di partenza di tutti i mali se fossimo tutti uniti ne riparleremo invece non siamo tutti uniti queste clientele che si costruiscono intorno alle grandi famiglie sono forti sono radicate non sono solo i nobili hanno i loro seguaci una grande famiglia nobile possiede tante case in città le dai in affitto possiede botteghe le dai in affitto se tu sei un affittuario degli uberti stai con loro se sei uno come dire un imprenditore che lavora per gli uberti e stai con loro comunque gli uberti lo sapete sono la grande famiglia ghibellina che a un certo punto viene cacciata da firenze quando vincono i guelfi e non torneranno mai più tutti ricordano farinata degli uberti nell'inferno di dante ecco Dino racconta che a un punto c'è una tregua c'è un momento di tregua in cui si fa una cosa che non si era mai vista si mettono d'accordo e lasciano rientrare i ghibellini esiliati a firenze durerà pochissimo dopo pochi mesi litigano li ributtano fuori ma in quel momento che i ghibellini esiliati sono tornati a firenze e per la prima volta sono tornati gli uberti a firenze e si sono visti gli uberti entrare a firenze a cavallo con i loro scudi con loro stemma dice Dino si vedeva tanta gente vecchi ghibellini uomini e donne che correvano a baciare lo stemma degli uberti dopo 50 anni che gli uberti erano esiliati dalla città quindi queste parti sono radicate sono profondamente radicate questo è un mondo fazioso faziosissimo dove a differenza della nostra faziosità politica di oggi loro hanno uno sfogo maggiore quando proprio non ne puoi più gli altri li ammazzi ecco di fronte a questa situazione la gente come Dino a un certo punto non ne può più la gente come Dino che vorrebbe lavorare fare i soldi in una città pacifica a un certo punto decide che i nobili sono la maledizione di questa città se non ci fossero i nobili si starebbe tanto bene tutti a lavorare niente guelfi né ghibellini e allora nasce quello che loro chiamano il governo di popolo popolo è una parola grossa popolo vorrebbe dire tutti tranne i nobili in realtà a firenze popolo vuol dire come dire la brava gente che paga le tasse quindi innanzitutto gli imprenditori quelli che hanno bottega che hanno un'impresa quello è il popolo a firenze fanno a un certo punto un governo di popolo che sarebbe come dire oggi un governo della confindustria sostanzialmente al vertice del comune mettono una giunta di sei priori e questi sei priori sono nominati dalle corporazioni le corporazioni sono le organizzazioni appunto confindustriali sostanzialmente loro ne hanno tante i pellicciai gli imprenditori della seta quelli della lana i notai i medici ecco il governo è in mano a questi ed è in questa fase che un uomo come dino si trova al governo perché finché comandavano i nobili gli uomini come dino stavano a bottega quando firenze a fine 200 fa questo esperimento di democrazia allargata allargata fin dove si può perché gli operai di dino non stanno al governo lui però che è un imprenditore che di fronte ai nobili buon del monte si toglie il cappello invece si trova fra quelli che vanno al governo e spesso si trova in un organismo di potere tenete conto che il governo di una città italiana comunale è fatto di infinite commissioni sotto commissioni consigli giunte fatte di sei uomini di 12 di 18 di 4 che durano pochissimo li cambiano continuamente al massimo stanno in carica un anno ma spesso stanno in carica anche molto meno i sei priori che rappresentano il vero governo della città che prendono le decisioni decisive se così si può dire i sei priori cambiano ogni due mesi è come se il presidente del consiglio e il consiglio dei ministri cambiasse ogni due mesi perché a loro sembra l'unico modo per evitare che certa gente prenda troppo potere e cominci a fare troppo i suoi affari dunque queste commissioni ruotano un sacco di cittadini vengono chiamati a partecipare al governo e i nobili non sono mica tanto contenti il grande dramma della firenze vista da dino compagni è che abbiamo fatto questo governo di popolo e noi governeremmo bene la città nell'interesse collettivo e invece ci sono i nobili con i loro amici con i loro partiti con le loro fazioni che pensano soltanto all'interesse loro nessuno pensa all'interesse collettivo all'interesse pubblico e gli scontri di interesse sono frequenti c'è un conflitto con arezzo per l'appunto dino e tanti altri bravi popolani sarebbero dell'idea vabbè ma perché bisogna fare la guerra contro arezzo ci mettiamo d'accordo discutiamo non facciamola i nobili la vogliono fare la guerra perché a loro conviene loro la sanno fare se si fa la guerra sono stipendi d'oro per i nobili e bottino e vuol dire che loro conteranno e se la guerra si vince chi l'ha vinta noi i nobili e quindi i mercanti stessero un po' al loro posto quindi ai nobili conviene alla fine la guerra si fa con tutto che dino era il governo in quel momento ha votato contro però la guerra si è fatta e dino qui viene fuori il mercante effettivamente dice la guerra più si consuma in un di nella guerra che in molti anni non si guadagna in pace e lo sa bene è una delle poche volte in cui parla di guadagno nel suo libro il guadagno è la sua vita quotidiana però lui qui parla di politica però anche nella politica c'entra il guadagno e quando devi decidere la guerra al mercante viene in mente che la guerra costa un sacco di denaro pubblico se ne risparmierebbe così tanto a far la pace ma i nobili vogliono la guerra e si fa la guerra oltretutto i nobili vogliono la guerra perché appunto in guerra contano solo loro un'altra cosa che è ovvia nella testa di dino e di quelli come lui è che la guerra non gli piace anche perché loro non la sanno fare non la vogliono fare non gli interessa in tempo di pace il mercante può anche aver più soldi del nobile e essere più bravo di lui amministrare ma in tempo di guerra il mercante sta a casa e il nobile quello che comanda e i mercanti non si intromettono nella guerra dunque la guerra si fa e i nobili sono sempre più prepotenti e la caratteristica della prepotenza è che non obbidiscono alle leggi questa è l'altra cosa che a dino crea ribrezzo ci sono abbiamo delle buone leggi a firenze se solo fossero rispettate la città sarebbe prospera ma le leggi non sono rispettate perché un po devo dirlo perché ce n'è per tutti per colpa dei giudici i maladetti giudici dice dino i quali interpretano la legge favoriscono i loro amici e favoriscono il loro partito ecco ma comunque se fosse solo quello ma il problema è che i nobili non ubbidiscono alla legge i nobili vanno in giro armati prova un po ad arrestarli e allora la soluzione è un governo di popolo ancora più duro che tenga i nobili come dire al loro posto che li rimetta al loro posto che li costringa a ubbidire ci hanno provato una volta cito sempre arezzo perché dino cita spesso arezzo che in quel momento una città toscana importante ad arezzo dice dino i nobili erano insopportabili per la loro prepotenza hanno fatto un governo di popolo hanno chiamato uno da fuori che ha comandato ad arezzo e ha messo i nobili al loro posto dice dino li costringeva a ubbidire alle leggi che è già una cosa inaudita poi a firenze finita ad arezzo è finita malissimo i nobili non ne potevano più si sono armati hanno preso il potere con la forza hanno rotto come dice dino il governo di popolo il capo del popolo lo hanno chiuso in una cisterna e lo hanno lasciato morire di fame dentro la cisterna e ad arezzo il governo di popolo è finito ma a firenze che sono piuttosto i popolani a firenze ci vogliono provare e fanno gli ordinamenti di giustizia anche questi li abbiamo sentiti ricordare a scuola giano della bella cosa sono gli ordinamenti di giustizia in due parole una legge straordinaria la legge dice i nobili non possono avere nessun incarico di governo in tutte le mille commissioni sotto commissioni consigli che governano firenze se uno è nobile non ci può stare secondo se un nobile offende un popolano se tira fuori la spada deve essere punito non solo lui ma tutti i suoi parenti sono tutti tenuti l'uno per l'altro e ci deve essere un organismo armato troviamo nel bilancio i soldi mettiamo in piedi un corpo di polizia al servizio del popolo che quando c'è una denuncia contro un nobile per violenza si va lì si arrestano tutti si tirano giù si radono al suolo le loro case perché così si faceva e così i nobili staranno al loro posto e si fa questo sistema a partire da quel momento i sei priori di firenze sono costretti a stare barricati dentro il palazzo della badia non c'è ancora il palazzo comunale e sul bilancio di firenze si trova da pagare una guardia speciale di poliziotti per proteggerli perché la vita di uno dei priori non vale un soldo in questo momento se escono in strada incontrano un nobile ecco e tuttavia in questa situazione di estrema tensione si riesce comunque a far passare queste leggi i nobili esclusi dagli uffici a un certo punto dine dice sì ma chi sono i nobili esattamente perché facile dirlo ma c'è un elenco facciamolo fanno l'elenco ogni famiglia che ha avuto un cavaliere fra i suoi è da considerare famiglia nobile famiglia di magnati se avete avuto un cavaliere non siete dei nostri perché noi siamo quella gente pacifica che vuole lavorare far soldi e che non va in giro armata quindi quelli che hanno dei cavalieri sono gli altri noi non li vogliamo non possono governare firenze i nobili ovviamente tanto contenti non sono lo capite anche voi i nobili sono fuori di sé dalla rabbia tanto più che hanno fatto la guerra contro arezzo l'hanno vinta hanno vinto la battaglia di campaldino e per tutto ringraziamento li hanno buttati fuori dal governo dino lo sa che i nobili quando si ritrovano fra loro lo sa che discorsi fanno questi popolani cani che ci hanno cacciato dagli uffici e dagli onori della nostra città noi siamo quelli che demmo la sconfitta in campaldino e adesso ci hanno cacciato dagli uffici i nobili sono pronti a tutto per tornare al potere ed è qui e in questa congiuntura che dino comincia a essere un uomo politico importante voi capite che non è una situazione proprio facile da gestire dino è un uomo dei mercanti è un uomo delle corporazioni viene spesso nominato fra i priori come funziona concretamente questa politica che dino è chiamato a gestire cosa vuol dire come funziona come succede è tutto assembleare è tutto collettivo perché comunque i cittadini si sentono tutti partecipi della politica le decisioni si prendono ve lo dicevo in innumerevoli consigli dove chiunque può essere nominato certi consigli sono addirittura sorteggiati si mettono i nomi di tutti i cittadini dentro un grande sacco si tirano sorte quindi chiunque può andare al potere è un esperimento di democrazia molto avanzato siamo a fine 200 e poi tante cose si discutono è una cosa che un come dire un reduce del 68 del 77 ci si sarebbe trovato benissimo nella firenze di fine 200 perché a ogni occasione cosa si fa si convoca un'assemblea e nell'assemblea tutti parlano e poi quelli che parlano più forte sono quelli che vincono e tutto si decide così anche cosa che a noi sembra assurdo decidere in quel modo quando fanno la famosa guerra contro arezzo di cui vi parlavo devono prendere una decisione strategica fondamentale cioè noi siamo i più forti attacchiamo ma da che parte si passa per andare ad arezzo passiamo da valdarno o passiamo dal casentino è una decisione strategica importante ne dipendono tante altre cose oggi ci sarebbe il generale comandante che decide invece loro radunano una grande assemblea nel battistero di san giovanni che è il luogo classico dove firenze ci si riunisce perché il palazzo vecchio non esiste ancora in quel momento e quindi nel duomo di san giovanni tutti i cittadini più importanti tutti quelli che hanno delle poltrone ricoprono degli uffici tutti i vecchi cavalieri esperti tutti i comandanti militari tutti lì e tutti discutono discutono tutto il giorno in pubblico per decidere se per attaccare arezzo si passa dal casentino si passa da valdarno e poi per decidere dopo che tutti hanno parlato e hanno detto il loro parere come fanno votano votano con le fave bianche e nere come si vota in tutti i consigli ognuno ha la sua fava bianca la sua fava nera poi le depositano nell'urna e si vede e dice dino si vinse di andare per casentino ed era la strada peggiore ma comunque per fortuna dio ci ha protetti è andato bene lo stesso quindi è una democrazia assembleare dove le cose si fanno con una larghissima partecipazione ed è una vita come dire anche qui l'ho già detto ieri è un mondo semplice questo dove ci sono delle dei limiti a quello che si può fare che oggi non ci immaginiamo neanche vi cito un altro esempio dino racconta questo c'è stato un momento di grave crisi a firenze è arrivato a firenze carlo di valois un principe francese per mettere pace fra i vari partiti contrapposti mandato dal papa noi dovevamo starlo a sentire per forza perché mandato dal papa e dal re di francia però c'era poca fiducia si aveva paura che lui volesse favorire uno dei partiti contro l'altro come infatti poi è successo si è visto dice dino dunque era un momento bisognava prendere delle decisioni rapidamente che facciamo di fronte a questo signore che viene che verrà a darci degli ordini bisognava decidere rapidamente cosa fare per decidere rapidamente cosa fare cosa si fa si convoca un'assemblea si convoca un'assemblea e tutti possono parlare c'è un palchetto con una ringhiera e gli oratori a turno salgono su questo palchetto e parlano e dino dice noi dovevamo decidere in fretta e la gente saliva lì e parlava 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 bandino falconieri non aveva niente da dire però è venuto lì ha tenuto la ringhiera impacciata mezza giornata e si era dice dino nei tempi più bassi dell'anno cioè era novembre voi capite cosa vuol dire i giorni sono corti quando viene buio si va tutti a casa non si continua a star fuori a discutere finisce la politica quando viene buio si chiude di novembre alle 5 è pomeriggio o hai deciso o è finita non si sta fuori quando è buio queste sono limitazioni che noi neanche ci immaginiamo e invece loro nella concretezza della loro vita li hanno questi problemi e dunque in questa politica in cui dino si trova immerso i soldi contano molto è una politica è un mondo quello dove i soldi girano girano tanto e contano tanto senza i soldi non si fa niente non si fa la guerra e non si fa neanche la politica quando il comune ha bisogno di soldi i cittadini ricchi i grossi finanzieri anticipano i soldi al comune e bisogna anche ringraziarli poi è chiaro che quando hai anticipato i soldi al comune e poi intanto aspetti la restituzione ma in attesa della restituzione ci sono tanti modi per farsi ricompensare quindi cittadini ricchi grandi banchieri prestano volentieri soldi al governo ecco soldi contano contano in politica estera si fa tutto con i soldi è raro trovare qualcuno come il cardinale matteo d'acqua sparta che viene mandato a firenze a un certo punto dal papa come al solito perché voi dovete sapere che firenze è una grande alleata del papa e il papa è leggermente sconfortato di vedere che a firenze non fanno altro che scannarsi fra parti fra partiti e che la città è continuamente divisa da guerre civili da scontri il papa vorrebbe mettere pace e loro hanno una gran paura che arrivi qualcuno dal papa con degli ordini perché gli secca che vengano i cardinali a dargli degli ordini però a un certo punto arriva il cardinale matteo d'acqua sparta e cerca di mettere pace e a molta gente questa cosa da fastidio e finalmente si trova uno dice dino uno di poco senno che gli tira una freccia con la balestra alla finestra di casa freccia si pianta dentro l'impannata della finestra non succede niente però il cardinale ci rimane piuttosto male sta per andarsene gettando l'interdetto su firenze allora bisogna calmarlo bisogna pacificarlo che si fa per pacificare il cardinale e gli mandiamo dei soldi il governo decide vanno a vedere la legge quanti soldi si possono stanziare senza dover fare una votazione a voto palese perché se bisogna fare una votazione a voto palese non ne usciamo più a voto segreto si possono mandare fino a 2000 fiorini e quindi va bene al cardinale d'acqua sparta mandiamo 2000 fiorini e dino e gli altri glieli portano anzi dino in persona dice glieli porta in una coppa d'argento gli porta i 2000 fiorini nuovi dice appena coniati e gli dice al cardinale messere guardate sono pochi lo so 2000 fiorini sono una somma colossale ma comunque sono pochi ma di più non si può spendere senza fare il voto palese quindi abbiate pazienza e il cardinale rispose che li aveva cari e molto li guardò e non li volle ma di questi ce ne sono pochissimi appunto che i soldi non li prendono i soldi normalmente li prendono tutti e la politica in città si fa per questo il quadro che da dino della politica in cui lui si è trovato a operare è un quadro sconvolgente dove dell'interesse pubblico non interessa niente a nessuno dove tutti sono in politica per fare gli interessi loro e dei loro parenti e del loro partito nell'ordine e quelle sono le uniche cose che importano e dunque lui dice c'è continuamente la gara d'uffici gli uffici sono le poltrone capite sono le innumerevoli poltrone che ti permettono per due mesi magari soltanto di prendere delle decisioni importanti per queste poltrone ci si scanna e si fa di tutto poi una volta che l'hai ottenuta la poltrona e sai che ce l'hai solo per due mesi e quindi devi sbrigarti anche a farla fruttare a quel punto succede di tutto si compra e si vende tutto si comprano e si vendono gli appalti si comprano e si vendono i processi poi dice dino è chiaro che in questo modo decisioni non se ne prendono mai questo devo dire fa venire un brivido nella nostra italia di oggi quando si legge questo dino dice ogni cosa decisa un giorno viene disfatta il giorno dopo e e lo cito ancora il male per legge non si punisce come il malfattore ha degli amici e può moneta spendere così è liberato dal maleficio fatto in questa situazione appunto la posta in gioco è grossa stare al governo vuol dire non aver problemi con la giustizia vuol dire che i tuoi processi vengono insabbiati e vuol dire che sei tu che metti le mani nelle tasche dei cittadini per usare ancora un linguaggio insomma attualizzante perché il governo tassa e tassa per me però non voglio come dire non voglio strappare degli applausi fin troppo facili e io sto parlando della Firenze di fine del 200 a Firenze alla fine del 200 i grandi problemi quali sono è la ripartizione delle imposte il denaro pubblico c'è il tesoro del comune e quelli che sono al potere avrebbero giurano di salvaguardare il tesoro del comune e invece dice Dino trovavano modo come meglio il potessero rubare e tiravano fuori i soldi dal tesoro dice sotto pretesto di ricompensare persone che avevano servito il comune fino a 2000 fiorini si capisce non c'è bisogno di votare si dà e i soldi vanno fuori ci sono casi scandalosi c'è un caso in particolare che Dino nota perché veramente la gente non ne poteva più è morto un grossissimo capopartito messer rosso della Tosa uno degli uomini più ricchi e influenti di Firenze il comune ha deciso di ricompensare la sua famiglia per i grandi servigi resi da questo capopartito ha armato cavalieri a spese del comune i figli di messer rosso della Tosa ora voi dovete sapere che armare uno cavaliere è una cosa costosissima perché richiede grandi festeggiamenti banchetti pubblici regali acquisto di cavalli di armature è una spesa enorme e anche per quello che i cavalieri sono prestigiosi perché sono pochi ci vogliono tanti soldi per essere cavaliere ecco il comune decide che col denaro pubblico si armano cavalieri e si coprono di regali i due figli di questo ricchissimo capopartito e la gente e la gente mormora ma non può farci niente si accontenta di prenderli in giro la gente dice qualcuno ha fatto il conto che tutti i soldi spesi per armare cavalieri questi due figli di papà più o meno equivalevano alle tasse pagate dalle povere operaie che lavorano nei filatoi e che fanno la fame e che si tolgono il pane di bocca per pagare le tasse le operaie del filatoio per cui dice li chiamavano i cavalieri del filatoio e va bene però come dire magra consolazione tutto sommato perché chi è al governo con i soldi pubblici fa quello che vuole e ogni tanto arriva qualcuno che dice ma non è possibile dove finiscono i soldi bisogna vedere bisogna fare i conti ma dino sa benissimo che quando arriva qualcuno a dire queste cose è perché la sua fazione in quel momento non è al governo e vuole buttare giù gli altri e quindi la fazione che non è al governo è sempre pronta a chiamare i cittadini in piazza e dire ma i soldi dove sono finiti non è possibile che per la guerra contro Arezzo se ne sono spesi così tanti chi è che se li è messi in tasca però dino ci crede poco che questa classe politica fatta di grandi nobili sia in grado realmente di moralizzare la vita pubblica lui si trova al governo più volte e il suo ideale è di cercare di pacificare le parti di fare lo dice lui e sia chiaro intendiamoci dice lui che il suo ideale è di fare l'interesse comune non fare fare in modo che nessun partito prevalga mettere fine alle ruberie lui si trova al governo ma è stritolato da queste forze contrapposte notate che come vi dicevo il governo dei sei priori dura due mesi dopo due mesi si sa che vanno via se ne nominano altri sei bene in certi momenti l'opposizione scende in piazza e minaccia cataclismi perché vuole le dimissioni dei priori non basta che fra due mesi si dovranno dimettere comunque richiedere le dimissioni del governo in carica è una cosa che in certi momenti si fa con estrema insistenza e petulanza dicendo questo governo non è neutrale vogliamo un governo veramente neutrale dino a un certo punto si trova costretto a cedere lui sarebbe dei priori e al governo avrebbe ancora un po di settimane in carica ma sono talmente forti le pressioni delle grandi fazioni dei partiti che vogliono che si dimettano che loro dicono va bene sarebbe illegale ma noi va bene ci dimettiamo convochiamo una riunione di tutti i capi partito e nominiamo un nuovo governo convocano questa riunione e dino è molto fiero dice io insomma ci sono due partiti contrapposti principali i guelfi bianchi e i guelfi neri che si scannano in piazza facciamo questo nuovo governo lo facciamo paritario dice dino perché è fondamentale io non voglio fare delle porcherie facciamo un governo veramente paritario i priori sono sei tre bianchi e tre neri poi ci sarebbe una settima carica di governo il gonfaloniere di giustizia che è quello che comanda la polizia e quando secondo gli ordinamenti di giustizia un nobile commette un delitto deve farlo arrestare andare a far spianare le sue case e così via ecco il settimo il gonfaloniere di giustizia dice dino non si poteva dividere perciò come fanno non potendolo dividere vogliono fare un governo assolutamente paritario che tutti i partiti siano soddisfatti come si fa con il settimo dice dino abbiamo scelto uno che valeva così poco che non poteva fare paura a nessuno come vedete il manuale cencelli non l'ha inventato nessuno loro hanno esattamente questa stessa preoccupazione di ripartizione ebbene dice dino lì mentre eravamo a discutere stavamo facendo il nuovo governo con tre da una parte tre dall'altra equilibrato è arrivato uno dei capi partito dei neri lui fa nomi e cognomi mi ha preso da parte e mi ha detto ma senti dino ma non si potrebbe fare che date più posti a noi e di meno a quegli altri e dino di fronte a questa cosa è indignato perché voi capite che questa politica io la sto raccontando come una politica ma poi la parte che si trova in minoranza rischia che un bel giorno gli fanno la pelle fisicamente perché quello è come dire lo sbocco poi delle rivalità dino a questa idea che lui sta facendo finalmente un governo insomma equilibrato dove ci sono la destra e la sinistra i bianchi e i neri parti uguali e poi arriva uno a dirgli ma senti dai più posti a noi invece lui dice io la parte del giuda non la voglio fare e io li risposi che innanzi che io facessi tanto tradimento darei i miei figliuoli a mangiare i cani dopodiché per questa volta tiene duro e riesce a resistere e questo governo così equilibrato fatto in parti uguali dove i due partiti avversi sono rappresentati alla pari provate a indovinare se dura lungo o no non dura niente immediatamente ricade e si ricomincia dunque dino si trova a fare politica in un momento in cui la politica di firenze è in mano a capi partito arrabbiati disposti a usare la violenza e che secondo lui non hanno nessuna idea di cos'è l'interesse pubblico vogliono solo occuparlo il potere e lui rappresenta se stesso va a sapere poi noi abbiamo la sua voce però lui rappresenta di questi partiti non fa parte lui è un uomo modesto è un piccolo imprenditore è finito al governo perché il sistema è quello lui lui il suo ideale è la concordia e lui ci sta male che i cittadini non la capiscono questa cosa che staremmo tutti bene se ci fosse la concordia in città se fossimo tutti veramente patriottici cittadini di questa nostra meravigliosa città sarebbe così ricca firenze e invece andiamo in rovina per questo quando lui fa dei discorsi fa questi discorsi appunto ispirati a questa idea ma perché litigate perché volete confondere disfare una così buona città contro chi volete combattere contro i vostri fratelli lui fa questi discorsi patetici certe volte certe volte li commuove in apparenza c'è una situazione in cui veramente la città sta per sta per esplodere la guerra civile lui convoca per l'ennesima volta l'avete capito un'assemblea in battistero e in battistero fa questo grande discorso dove dice ma siamo tutti fratelli siete stati tutti battezzati qui in questo fonte battesimale perché a quell'epoca si battezzava soltanto lì in cattedrale quindi ogni fiorentino era passato di lì da quel fonte battesimale di san giovanni e lui fa questo discorso strappa lacrime questo appello come dire alle emozioni e dice poi piangevano hanno tutti io gli ho detto giuriamo giuriamo di essere tutti uniti di non fare più del male alla nostra città piangevano hanno giurato tutti quelli che piangevano di più sono quelli che appena usciti hanno ricominciato a tramare per distruggere tutto e un'altra cosa che dice dino è ma sarebbe stato ragionevole far la pace perché queste lotte di fazione portano il disastro a tutti la ragione ci dice che dovremmo andare d'accordo ed è di nuovo questo appello alla ragione che per la gente di quell'epoca era una cosa fondamentale loro hanno sempre in bocca la ragione non è un'epoca come dire oscura da questo punto di vista il medioevo per loro la ragione è un ideale straordinario perché la ragione la data dio secondo loro naturalmente però loro l'ideale di una gestione razionale delle cose loro ce l'hanno in testa poi invece gli uomini non sono capaci di essere razionali e di essere ragionevoli e dunque la città sprofonda nel caos nonostante tutti gli sforzi della brava gente come dino che vorrebbe riportare la politica cittadina all'equilibrio la città sprofonda nel caos e tra le due grandi fazioni ci abbiamo anche a concludere naturalmente vista l'ora tra le due grandi fazioni i guelfi bianchi e i guelfi neri si comincia anche a capire chi vincerà e chi vincerà purtroppo dice dino si capisce perché alla testa dei guelfi bianchi ci sono i cerchi grande famiglia che però sono gente nuova sono mercanti sono mercanti che hanno fatto i soldi erano gente come me come dino hanno fatto i soldi adesso sono cavalieri hanno le armi cavalli però nel cuore nell'anima sono sempre mercanti e invece dall'altra parte alla testa dei neri ci sono dei baroni ci sono i donati che sono dei grandi nobili antichi abituati a far la guerra e vedendo questo la gente che capisce come va il mondo dice dino ha cominciato a un certo punto a dire qui non c'è partita qui da una parte abbiamo i cerchi e sono mercatanti e naturalmente sono vili e i loro nemici sono maestri di guerra e crudeli uomini se un partito è guidato da mercanti e l'altro partito è guidato da nobili cavalieri non c'è non c'è partita appunto perché i mercanti cercheranno sempre il compromesso la pacificazione non hanno voglia di dire sai che c'è tiriamo fuori le spade e vediamo chi è più uomo e invece ai nobili vi è naturale ragionare così i nobili piuttosto che accettare il compromesso la pacificazione tirano fuori le spade e dino lo ammette noi stessi io e gli altri mercanti che eravamo al governo in quel momento lui scrive anni dopo quando ormai è andata a finire malissimo noi che eravamo al governo in quel momento siamo stati deboli siamo stati vili non abbiamo capito non abbiamo capito che non era più il momento di mediare noi abbiamo cercato di mediare abbiamo cercato di convocare assemblee di convocare riunioni di mettere insieme tutti di pacificarli e abbiamo perso il momento giusto perché non bisognava fare quello non era quello il momento non bisognava trattare di pace bisognava dice dino arrotare i ferri cioè affilare le spade e noi che eravamo mercanti quello non l'abbiamo capito ecco in questa politica della firenze medievale voi vi sarete accorti che finora è mancata completamente una cosa io non ho mai parlato neanche lontanamente della dimensione religiosa noi siamo abituati a pensare agli uomini del medioevo e abbiamo ragione come una società profondamente religiosa dove la fede cristiana conta e conta molto è vero conta molto per l'interiorità di ciascuno ma in questa politica dei comuni italiani la religione non conta niente è una politica talmente feroce talmente spietata dove l'unica posta è il potere che la religione non conta niente chi la religione dentro di sé la sente vede la contraddizione dino dino a un certo punto li ha fatti giurare ha fatto giurare tutti i cittadini più importanti tutti i capi partito in san giovanni che avrebbero fatto la pace anni dopo dice dino io continuo a pensarci a questa cosa che ho fatto e ho paura e sono pentito di averlo fatto perché quelli si sono dannati tutti hanno tutti giurato e non ce n'è uno che l'abbia mantenuto questo giuramento ma sono io che li ho fatti giurare non avrei dovuto farlo la dimensione religiosa è l'estrema risorsa di chi in politica ormai sente che sta perdendo non ce la fa più allora ricorre a quello dino a un certo punto dice abbiamo fatto anche questo sempre il governo lui sempre i partiti armati contro l'uno contro l'altro la città che sta per sprofondare nella guerra civile dino dice è arrivato un frate un santo frate un uomo religioso ben conosciuto ci ha detto perché non fate una processione una grande processione in città per invocare la protezione di dio e perché tutti i cittadini nella processione possano ritrovare la loro unità e dice dino sì l'abbiamo fatta abbiamo fatta la processione lui ci credeva in quel momento ma non ci crede già quasi più nessuno in realtà in città tant'è vero che dino dice abbiamo fatto la processione e molti ci schernirono dicendo che meglio era arrotare i ferri appunto di nuovo era meglio affilare le spade e non fare la processione la religione della politica è già fuori non c'è niente da fare in quella politica c'è soltanto il potere da prendere a raffare a tutti i costi in tutti i modi e la religione rimane e come rimane rimane come la consolazione di quelli che hanno perso alla fine dino dino perde perché a un certo punto i capi partito violenti prendono il potere ed è finita con i piccoli mercanti chiamati al governo che tornino alle loro imprese alle loro aziende dino rimane ancora tanti anni a firenze non è coinvolto nelle parti lo lasciano stare mentre quelli della parte bianca che perde vengono esiliati in massa da firenze è il momento in cui anche dante alighieri viene esiliato da firenze perché stava col partito che ha perso dino no è uno che non conta è stato al governo quando i mercanti credevano di comandare l'oro ma adesso è finita ci sono di nuovo i nobili cavalieri che comandano intendiamoci d'accordo con i mercanti più ricchi perché i mercanti più ricchi e i finanzieri grossi hanno capito presto che a loro in realtà conveniva mettersi con i nobili e sposare le loro figlie e partecipare ai loro tornei e costruirsi dei bei palazzi delle torri e comprare i cavalli e le armi e stare con i nobili e i piccoli imprenditori e i bottegai e gli artigiani si possono restare in città ma basta con la politica con la politica importante hanno chiuso quel di no chiuso vivrà ancora molti anni gestendo la sua compagnia di import export e aspettando di vedere se dio punisce tutti questi malvagi che hanno fatto hanno portato la città la rovina secondo lui aspetta perché la giustizia di dio è lenta aspetta a un certo punto gli sembra che però le cose si stiano mettendo bene perché scende in italia l'imperatore enrico settimo e l'imperatore enrico settimo scende in italia e sembra che sia arrivato il castigamatti che riporterà l'ordine che porterà la pace edino è entusiasta ci crede voi capite che razza di rinuncia è la città da sola non si può governare non esiste deve venire qualcuno da fuori più grosso e più forte di noi che ci comandi e allora forse sapremo stare in pace e saremo governati bene arriva l'imperatore dice dino e sta venendo lui lo aspetta sta scendendo in italia mettendo pace come fosse uno angelo di dio perché ogni città che tocca pacifica i partiti fa rientrare gli esiliati questa è la grande speranza quando dino scrive sta ancora aspettando che l'imperatore arrivi non succederà niente naturalmente neanche stavolta l'imperatore non farà niente dino non lo sa ancora e poi sta a guardare dino cosa succede ai grandi capi partito a quelli che erano come dire alla guida delle fazioni quando hanno distrutto il governo di popolo e hanno riportato come dire l'affermazione violenta più brutale al potere della città e i grandi capi partito è dino è fortunato vive a lungo prima o poi muoiono e vedendoli morire uno dopo l'altro dino si dice beh dopo tutta una giustizia c'è in questo mondo ecco noi in politica abbiamo perso ci hanno buttati fuori dal potere si sono presi tutto loro però dio è là e vede e uno dopo l'altro li va a prendere e c'è quello che è inciampato mentre andava per strada e si è rotto il ginocchio e i chirurghi l'hanno torturato per un mese e poi gli è venuta la cancrene ed è crepato e uno dopo l'altro muoiono e dino sta a vedere e si dice sì dopo tutto la giustizia di dio c'è e arriva ecco quelli erano uomini del medioevo e avevano questa speranza di fronte alla politica del loro tempo ma noi non siamo qui per fare dei paralleli con l'oggi ero qui per raccontarvi come vedeva il mondo un mercante fiorentino grazie 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 Allora, bene, buonasera a tutti. Questa sera siamo al terzo appuntamento con questo tentativo di far conoscenza con gli uomini del Medioevo. Mentre lo dico mi rendo conto che non ho parlato di donne, c'è un grosso problema in questo. La stragrande maggioranza delle persone che nel Medioevo hanno scritto erano uomini. C'erano anche delle donne e avrei potuto pensarci prima, forse. Per l'anno prossimo le prometto, se vogliono, qui. Però sono stato pigro perché quando noi pensiamo al Medioevo lo pensiamo sempre un po' fatto così, per categorie, appunto, come ho fatto io qui. Il frate, il cavaliere, il mercante, il contadino, con le donne è più difficile. Le donne hanno una posizione sociale ma hanno anche qualcosa di più. Sono più difficili da incasellare, almeno in quell'epoca lì. Ma, ripeto, magari ne riparleremo. Questa sera il cavaliere. Il cavaliere di cui parliamo è un francese, si chiama Jean de Joinville, è un cavaliere del 200, contemporaneo di quel salimbene, di quel frasalimbene di cui abbiamo parlato l'altro ieri. A dire la verità è qualcosa di più di un cavaliere, è un capo di cavalieri, è un gran signore. Sapete, la maggior parte dei cavalieri sono dei gentiluomini che vivono bene, che hanno terra, servitori, cavalli, ma sono al servizio di qualcuno. Sono al servizio di un castellano, di un gran signore, il quale è un cavaliere anche lui, ma insomma di un livello un po' superiore. Jean de Joinville è un uomo così, è uno che possiede diversi castelli, quindi possiede una signoria dove lui è il signore, dove lui è l'autorità pubblica. Lui mantiene l'ordine, riscuote le imposte, amministra la giustizia e per di più è anche un grande funzionario del re. Joinville ha servito per anni il re di Francia come siniscalco di Champagne, cioè amministratore rappresentante del re nella regione di Champagne. E con tutto questo è un cavaliere. Essere un cavaliere vuol dire essere stati educati in un certo modo, condividere certi valori, che magari sono anche quelli che raccontano i romanzi, i romanzi medievali che tutti abbiamo presenti e che anche loro leggevano, dove si dice che il cavaliere deve proteggere le vedove, gli orfani, essere umile e così via. Poi in realtà i veri valori dei cavalieri sono piuttosto altri, i valori veri che Joinville condivide con i suoi vassalli sono il valore in guerra, il coraggio fisico dimostrato in battaglia quando si rischia la pelle, il cameratismo fra compagni d'arme, l'onore. Detto questo Jean de Joinville è famoso fra noi storici e io posso parlarvi di lui stasera perché ha fatto una cosa che per i cavalieri era piuttosto insolita, ha scritto un libro. Ha scritto un libro per un motivo preciso, lui ha servito come vi dicevo a lungo il re di Francia e il re che lui ha maggiormente servito è stato Luigi IX, il santo, il grande re di Francia del 200 che è stato protagonista di due crociate, nella seconda c'è poi morto. Joinville lo ha accompagnato nella prima crociata, una spedizione che è partita nel 1248 e è tornata, i pochi che sono tornati sei anni dopo. Poi alla seconda crociata del re Joinville non c'è più andato, come molti superstiti della prima hanno preferito non andarci, il re c'è andato e c'è morto nel 70. Joinville è sopravvissuto al suo re per tanti anni, quando era già vecchio, siamo già all'inizio del 300, negli stessi anni in cui Dino compagni che vi ho raccontato ieri viveva la politica fiorentina, in quegli stessi anni nel suo castello di Joinville lui si rende conto che è uno dei pochi rimasti che si ricordano il re santo. Nel frattempo Luigi IX è stato fatto santo davvero, l'hanno canonizzato, ormai è ufficialmente un santo e allora a Joinville viene voglia di scrivere e qualcuno gli chiede di scrivere e lui scrive, scrive questo straordinario libro che dovrebbe essere una vita di Luigi IX e che in realtà sono le memorie di Jean de Joinville, di questo gran signore francese del suo tempo, dove si racconta soprattutto questa ipopea della crociata. E dunque, e dunque non è soltanto un cavaliere ma è un cavaliere crociato quello che abbiamo di fronte stasera e credo di non stupire nessuno se dico che nella visione del mondo di questo cavaliere crociato che per di più sta ricordando i tempi della crociata proprio, ebbene in questa visione del mondo la religione ha un posto centrale. Qui non rimane deluso chi ha in mente diciamo un medioevo dominato dalla religione, è vero che per molti, quasi tutti, la religione era comunque una dimensione vissuta con un'intensità che oggi insomma pochi si immaginano. Non parlo solo di Luigi IX che infatti è stato fatto santo, io pensavo prima di raccontarvi, di farvi l'elenco di tutte le messe e gli uffici divini che Luigi IX sentiva ogni giorno della sua vita, poi ho pensato che perdevamo troppo tempo a fare questo lungo elenco, ma il re sentiva diverse messe e parecchi uffici divini cantati e no ogni giorno. Era un santo, Jeanville che è un cavaliere qualunque, un signore qualunque, una messa al giorno però la sente. La giornata di un cristiano e la giornata di un cavaliere comincia con la messa e la religione è sempre presente, c'è una familiarità spontanea con le cose della religione che è caratteristica di questa gente. Entravano i cani in chiesa nel medioevo quindi noi qui non ci facciamo certo spaventare. Racconto un aneddoto che rende l'idea di come loro ragionavano. Stanno tornando dalla crociata dopo essere stati fuori sei anni e aver visto morire la maggior parte dei loro amici. Tornando dalla crociata che è stata in Egitto e loro tornano per mare, a un certo punto fanno scalo a Lampedusa, come capita a quelli che partono dall'Egitto e vanno per mare naturalmente. Fanno scalo a Lampedusa che trovano deserta, non ci vive nessuno. Però ci sono gli avanzi, anzi c'è ancora un eremitaggio. Loro capiscono subito che è un eremitaggio. Si vede è un eremitaggio, è una casetta isolata col suo orto, col suo giardino dove ci sono dei fichi, delle viti, degli olivi e poi ha una cappella, un oratorio. Quello che fa capire che è un eremitaggio. C'è un oratorio imbiancato a calce con un crocifisso e non c'è nessuno. Nella stanza accanto ci sono due scheletri, ci sono due morti che sono stati ricomposti dopo la morte e lasciati lì e sono evidentemente gli eremiti che hanno vissuto in quel luogo. Loro sono tutti commossi, poi hanno fatto acqua, se ne tornano alle galere per ripartire. Al momento di ripartire si accorgono che manca un marinaio. Manca un marinaio, aspetta, aspetta, non torna, finalmente quelli che lo conoscono dicono ma secondo noi si è fermato qua per fare l'eremita lui. C'è stata questa occasione, quello che fino a un momento fa chissà cos'altro pensava di fare della sua vita e invece è rimasto così colpito dalla scoperta di questo eremitaggio deserto abbandonato da decidere di fare l'eremita e questa cosa sembra naturale a tutti. Tutti dicono è certo evidentemente è così, gli lasciano delle casse di biscotto sulla spiaggia in modo che possa nutrirsi per un po' e poi arriverà qualche altra nave e continuerà a mantenere l'eremita e ripartono e per loro è una vicenda normale. Così come è normale che avvengano i miracoli. Vi sapete i miracoli se uno ci crede avvengono, allora ci credevano praticamente tutti e quindi avvenivano, era facile essere sicuri di aver assistito a un miracolo e aver assistito a un miracolo era una cosa importante che ti restava impressa, che ti portavi dietro, specialmente durante una crociata catastrofica come quella di San Luigi di miracoli ce ne vogliono tanti per aiutarli a tornare a casa i superstiti. Joinville ha assistito personalmente a un miracolo, sempre durante il viaggio di ritorno a un certo punto dalla nave davanti alla sua uno si è arrampicato da qualche parte per fare qualche lavoro sulla nave e caduto in acqua e Joinville dice noi dalla nave dietro vedevamo questa cosa in acqua ma era immobile tanto che abbiamo pensato che fosse un pacco, un mobile, qualcosa che era caduto lì un oggetto che era caduto in mare. Comunque mettiamo in mare la barca per andarlo a recuperare si scopre che è un uomo, un marinaio e vivo e vegeto sta benissimo e gli chiediamo ma perché non nuotavi, non cercavi di agitarti, di chiamare e il marinaio dice Joinville che l'ha sentito con le sue orecchie, ha detto ma non ce n'era mica bisogno perché quando mi son sentito che cadevo in mare ho invocato la vergine di Vauvert e la vergine di Vauvert mi è apparsa e mi ha tenuto su e io mi son sentito che mi teneva su e mi teneva a galla perciò stavo tranquillo e Joinville ha assistito con i suoi occhi a un miracolo. Lo racconta così en passant, potrebbe essere finita qua, invece nella frase dopo dice e io l'ho fatto dipingere nella cappella di Joinville e nelle vetrate della chiesa di Blecourt che è l'altro villaggio che gli appartiene. Questo vuol dire che anche se lui adesso non ci insiste perché aveva sentito un miracolo può capitare a tutti insomma, però poi quando ti capita davvero a te è una cosa che te la senti dentro, è lui che è il signore del villaggio, lo fa frescare nella chiesa, lo fa mettere nelle vetrate e così via. Ecco questo è il mondo in cui loro vivono dal punto di vista religioso, dove la religione è un grande collante che accomuna tutti ed è sentita con estrema, come dire, con grande fervore e grande semplicità anche, anche troppa semplicità certe volte. Joinville racconta un episodio con grande approvazione devo dire e c'è stato una volta, mi hanno raccontato di recente al monastero di Cluny, sapete Cluny in Borgogna, grande monastero Benedettino. A monastero di Cluny avevano organizzato una grande disputa di chierici e di ebrei. Le dispute erano una cosa, forse l'ho già accennato parlandone di Fra Salimbene, le dispute intellettuali pubbliche erano una cosa che piaceva molto ai chierici, agli uomini di chiesa del medioevo. Gli piaceva questa occasione di dimostrare quanti erano bravi affrontando degli avversari discutendo con loro, i loro fratelli che non si erano fatti preti facevano i tornei e ogni giorno dimostravano di essere i più bravi sconfiggendo un avversario, anche agli ecclesiastici piaceva farlo. Dunque al monastero di Cluny si organizza una disputa teologica tra dei chierici e dei rabbini e c'era lì, dice Joinville, mi hanno raccontato, un vecchio cavaliere che viveva lì al monastero, l'abate lo manteneva per carità. Capitava spesso che un cavaliere che aveva passato la vita a combattere, a menare le mani, in vecchiaia, intanto non ne poteva più fisicamente e magari ne aveva anche abbastanza di quella vita, spesso in vecchiaia andavano a vivere in monastero, chi aveva qualcosa regalava i suoi beni al monastero, chi non aveva niente poteva anche essere accolto per carità e passavano gli ultimi anni di vita in monastero. Allora dice Joinville, mi hanno raccontato che al momento in cui doveva cominciare la disputa questo cavaliere si è fatto avanti e ha chiesto di poter essere il primo a disputare col rabbino. L'abate non è che fosse tanto contento però l'altro insisteva e ha dovuto dargli d'accordo, comincia tu. Allora il cavaliere appoggiato alla sua gruccia molto cortesemente chiede al rabbino, maestro ma voi ci credete alla vergine Maria che ha partorito nostro signore Dio ed è rimasta vergine. E il rabbino, dice Joinville, gli rispose che loro non ci credevano neanche un po'. E il cavaliere rispose fate molto male e alzò la gruccia e assestò una gran botta sulla testa del rabbino. E gli ebrei si portarono via il rabbino e la disputa finì lì. E Joinville ne ha parlato col santo re Luigi di questa cosa e tutte e due si sono trovati d'accordo che il cavaliere ha fatto benissimo perché disputare con i miscredenti insomma è già pericoloso però lo possono fare i dotti sapienti che riescono a tenergli testa perché se va male, se vincono gli ebrei nella disputa pubblica, ecco ci può essere anche qualcuno, qualche bravo cristiano che ha le idee confuse a quel punto quindi bisogna stare attenti. I laici in queste cose non si devono mescolare, i laici gli dice il santo re, quando sentono parlare male della fede cristiana devono tirar fuori la spada. Dunque questa fede così spontanea, così irruente anche, così violenta, così intensa certe volte, ecco non vi stupirete se vi dico che è anche una fede molto attaccata alle forme, molto formalistica perché appunto una fede ingenua vuole anche dire che insomma io ci tengo a fare le cose giuste, a rispettare il digiuno del venerdì, il digiuno della quaresima e se queste cose non le rispetto, insomma mi sento veramente male. Sono cose che nel cristianesimo di oggi hanno perso importanza e invece allora il cristiano si senteva potentemente obbligato a rispettare tutte queste cose. È successo proprio a Joinville di sperimentarlo di persona. Siamo durante la crociata, anzi verso la fine della crociata che è già finita malissimo, i turchi hanno vinto, hanno massacrato mezzo esercito crociato, hanno catturato tutti gli altri. Sono scene che Joinville tra l'altro descrive con una potenza straordinaria, ecco questi momenti di sfacelo, di fuga, di caos, questi che si arrendono e arrendersi è un azzardo perché non sai nelle mani di chi finisci e i turchi, i saraceni, è difficile prevedere cosa faranno, ci sono quelli che quando vedono dei prigionieri un po' malandati, malati eccetera, una botta in testa e giù in mare e invece ci sono quelli che trattano molto cortesemente i prigionieri. Poi comunque il re e i gran signori vengono sempre trattati molto cortesemente, quello va da sé anche perché pagheranno un grosso riscatto per essere liberati ma poi comunque i re e i gran signori cristiani o musulmani si capiscono, fanno parte dello stesso mondo, hanno tanti argomenti in comune come vedremo subito. Dunque le cose sono già più o meno finite, Joinville è prigioniero ed è a pranzo con un emiro che l'ha invitato a pranzo. L'emiro l'ha invitato a pranzo e stanno chiacchierando con l'interprete si capisce e stanno chiacchierando allegramente dei rispettivi alberi genealogici e di conoscenze comuni perché l'emiro è molto interessato all'imperatore Federico II, viene fuori che Joinville è parente dell'imperatore Federico II, sono lì che stanno confrontando appunto le conoscenze e gli antenati e mangiano. A certo punto capita lì un altro crociato prigioniero, un borghese francese dice Joinville, mi vede e mi dice ma Messere ma che cosa fate? Joinville dice ma perché scusa cosa sto facendo? Ma per l'amor di Dio Messere state mangiando carne di venerdì. Joinville salta in piedi, allontana la scodella, orripilato, perché voi capite nel caos la battaglia, la cattura e tutto si era scordato che giorno era, era venerdì e stava mangiando carne. L'emiro che assiste a questa scena gli fa chiedere dall'interprete cosa è successo, Joinville glielo spiega e il musulmano gli dice ma sta tranquillo che Dio non può avercela con te, non l'hai mica fatto apposta. Joinville però ci sta male, ci sta male di aver fatto questa cosa, appena può va a consultare il legato papale presso l'esercito crociato. Quindi un alto prelato gli racconta tutto, l'alto prelato gli dice la stessa cosa che gli ha detto il musulmano, cioè Dio non può avercela con te, non l'hai fatto apposta, non preoccuparti. Joinville non ci crede, si sente addosso questa cosa, dice ho cominciato a digiunare a pane e acqua tutti i venerdì per liberarmi, per purificarmi da questa cosa che avevo fatto. Quindi le forme sono importanti, le forme sono importanti non bisogna trasgredirle ed è una religiosità che pur essendolo abbiamo visto intensissima e spontanea è anche attaccatissima al rispetto delle regole formali, delle parole che si pronunciano per esempio. È un mondo curioso questo perché tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo, tutti continuamente, tutti giurano, quando si deve dire qualcosa tutti dicono per Dio, in nome di Dio, per la testa di Dio, per le piaghe di Dio, ognuno ha il suo modo di giurare, Joinville spesso lo nota, ci sono dei gran signori che hanno un modo particolare di giurare, c'è uno che giura per la cuffia di Dio, continuamente, e dall'altra dice tutti hanno sempre in bocca il diavolo, va al diavolo, ti porti il diavolo, e questa dice Joinville è una cosa brutta, è una delle tragedie del nostro rebel regno di Francia, il santo re Luigi lui non menzionava mai né Dio né il diavolo, non ho mai sentito dire queste cose, invece noi lo facciamo e menzionare Dio in questo modo in realtà non è la cosa più grave, è grave menzionare il diavolo, infatti Joinville dice io a casa mia ho stabilito una regola, chiunque gli scappa di bocca di menzionare il diavolo o paga pegno o fa penitenza e fra i miei servi è praticamente sparita questa brutta abitudine, menzionare Dio invece va bene, uno per rafforzare le sue affermazioni chiama Dio a testimone, anche lui l'ha fatto e però ci si mette nei guai certe volte, racconta Joinville, sempre durante la crociata come il grosso delle cose che vi racconto stasera, i crociati si stavano spostando, spostavano l'accampamento, ogni sera mettevano le tende in un posto nuovo, una sera dice è venuto uno dei miei cavalieri, quello che aveva scelto il posto per la tenda quella sera e mi dice si re, si diceva si re i signori anche non soltanto i re in francese antico, si re stasera vi ho alloggiato meglio di ieri sera eh, il cavaliere che aveva scelto il posto per la tenda ieri sera sente questo, salta su, lo prende per i capelli e gli fa come osi parlare di qualcosa che faccio io, ora questa è una grandissima scortesia, davanti al signore accapigliarsi fra cavalieri in questo modo è il massimo della villania della maleducazione, Joinville non ci vede più e dice così come Dio mi aiuti tu non entrerai mai più in casa mia, ti licenzio, non sarai mai più uno dei miei cavalieri, questo se ne va piangendo, poi torna lo implora di perdonarlo, fa venire gli amici che gli dicono ma su per una cosa così e Joinville dice beh io per me però ho giurato, ho detto così come Dio mi aiuti tu non entrerai più in casa mia, adesso non posso mica farti rientrare come se niente fosse, se il legato papale mi scioglie dal mio giuramento io sono contentissimo di riprenderti, van dal legato papale gli spiegano la cosa e il legato papale dice mi dispiace ma il giuramento questo è un giuramento valido, c'erano dei motivi, io non lo posso mica sciogliere così come niente fosse, non si può e dice Joinville così ho imparato bisogna stare attenti a quel che si dice, perché non l'ha più ripreso il suo cavaliere dopo questa vicenda. Un altro aspetto che colpisce molto di questa religiosità così come l'esprime Joinville ma certamente condiviso da tanti è un altro aspetto di concretezza, dicevo prima che i miracoli avvengono, dicevo prima che si chiama continuamente Dio a testimone di quello che succede, c'è qualcosa di più, ci si aspetta continuamente di essere aiutati da Dio, dalla Vergine, dai Santi, ci si aspetta continuamente che mentre uno attraverso un guaio, una difficoltà, invocando Dio, Dio ti aiuta e quando sei in pericolo e rischi la pelle in battaglia invochi Dio e Dio ti aiuta, è per questo che noi serviamo Dio, dice Joinville. Durante la crociata gli hanno spiegato che molti musulmani, i beduini dice lui in particolare, lui è raccontata così, i beduini hanno una credenza molto strana, hanno la credenza che l'uomo porta scritte in fronte alla sua morte e che quindi può morire soltanto nel giorno stabilito. Lo sapete, si usa a dire questa cosa del fatalismo musulmano per cui ogni uomo ha già il giorno prestabilito della sua morte e Joinville trova che questa è un'idea assurda, perché se uno ha già il giorno stabilito della sua morte è come dire che Dio non ti può aiutare per cambiare le cose, che Dio non ti può aiutare quando sei lì che rischi la pelle in battaglia e lo invochi e non serve a niente invocarlo perché tanto è già tutto deciso. E Joinville dice ma questa è una cosa ridicola, se fosse davvero così, e questa è la cosa che mi ha colpito di più, la cosa più interessante, la conclusione più interessante che lui ricava da questa cosa, dice se fosse davvero così, ma sarebbero scemi quelli che servono Dio, se noi non credessimo che abbia il potere di allungarci la vita e di aiutarci nelle difficoltà, è per quello che lo serviamo e a lui sembra perfettamente ovvio, c'è un contratto con Dio e questa è la logica. Dopodiché forse cominciate già a intravedere quella che a me sembra una, come dire, una grossa contraddizione di questa religiosità, che da un lato è così calda e così sincera e però non esclude affatto l'attaccamento, come dire, all'interesse concreto, ai vantaggi concreti, all'aiuto che si spera di ottenere. Certo, servire Dio vuol dire fare delle rinunce, anche delle rinunce pesanti certe volte. E chi lo può sapere meglio di Joinville che ha passato sei anni alla crociata? Quando lui racconta la partenza per la crociata lo dice in poche parole, sono partito, il re Luigi quando è partito, lo raccontavo l'altro ieri sera, ha attraversato metà del suo regno a piedi, vestito da pellegrino, col bastone e la bisaccia. Joinville non ha fatto la stessa cosa ma anche lui allontanandosi dal suo castello di Joinville ha fatto il giro delle chiese dei dintorni a piedi, umilmente, col bastone da pellegrino, prima di allontanarsi definitivamente e dice mentre facevo il giro non mi son mai voltato indietro a guardare verso Joinville perché non volevo che mi venisse addosso la pena del bel castello che stavo lasciando di mia moglie e dei miei figli. Quindi di rinunce se ne fanno, dopo quella partenza lui sta via sei anni prima di rivedere la moglie e i figli e il castello di Joinville e però di rinunce se ne fanno ma il buon senso si tiene sempre presente, non si va alla crociata per il gusto di farsi ammazzare, anzi si va alla crociata sperando alla fine di salvare la pelle e tornare indietro, non sono dei martiri fanatici questi crociati, questi cavalieri crociati e la cosa viene fuori con assoluta evidenza proprio nel momento in cui i crociati vengono sbaragliati e i turchi cominciano a catturarli. Joinville in quel momento è su una nave, loro stavano cercando di scampare a bordo di queste navi però gli arrivano addosso le galere dei saraceni, circondano la sua galera, lui è su questa nave con i suoi cavalieri, con tutti i suoi domestici, tutta la sua gente, gli arrivano addosso i saraceni, si preparano a bordare la galera e Joinville dice noi ci siamo chiesti che facciamo adesso e ci siamo trovati tutti d'accordo, ci arrendiamo, non c'è assolutamente niente da fare, ma uno dei miei domestici dice, un cantiniere, ha alzato la mano e ha detto io non sono d'accordo con questa decisione, e tu che cosa consigli? Io dico di farci ammazzare tutti, così andremo dritti in paradiso. E questo è veramente quel medioevo come noi in fondo ce l'aspettiamo no? È interessante che sia non un nobile cavaliere ma uno qualunque che ha questa idea, siamo qua, andiamo fino in fondo, siamo coerenti fino al martirio, questo è il medioevo che ci aspettiamo, salvo che è soltanto lui che lo dice. Joinville liquida la questione con una frasetta, ma noi non gli abbiamo mica dato retta, e infatti si arrendono e la scampano in gran parte. Buonsenso, religiosità, impegni religiosi, mantenere la parola, non è facile essere coerenti in questo campo, il buon re Luigi era un santo anche perché lui la parola la manteneva sempre, perfino con i saraceni, che è una cosa che Joinville colpisce abbastanza perché insomma mantenere la parola certo ma con quelli e invece è successo, l'ha visto lui, dopo la prigionia stanno pagando il riscatto, ci sono stati lunghi negoziati con i saraceni che li hanno catturati, alla fine hanno stabilito una grossissima somma, 200.000 lire tornesi, un'enorme somma per liberare il re e i gran signori e a questo punto sono venuti i soldi dalla Francia, sono arrivati giorni e giorni per contarli, per consegnarli, quando hanno quasi finito uno dei cavalieri del re, Messer Philippe de Nemours, arriva tutto allegro e dice sì re, li abbiamo imbrogliati, gli abbiamo dato 10.000 lire di meno e non se ne sono accorti, sono tutti contenti, il re non è contento per niente, è un santo, queste cose lui non le fa, è imbronciato e dice ma io ho dato la mia parola di pagare 200.000 lire e paghiamo 200.000 lire, a questo punto succede la seguente commedia, Joanneville che è presente, pesta il piede a Messer Philippe de Nemours perché stia zitto e dice ma no sire scherzava, non è mica vero, imbrogliare i saraceni, chi ci riesce, sanno tutti che i saraceni sono bravissimi a contare e Messer Philippe de Nemours che ha mangiato la foglia dice sì sì è vero, è vero, scherzavo, ma il re non si fa bindolare, rimane di pessimo umore, dice se hai scherzato era uno scherzo stupido e io adesso vado a controllare perché voglio essere sicuro che abbiamo pagato tutto perché questo peso non me lo porto dietro. Ecco non era facilissimo convivere con questo re come vedete, io ho cominciato raccontandovi di un cavaliere crociato che ha una profonda religiosità però un conto è avere una profonda religiosità e un conto è dover vivere con un re santo che le cose le spinge all'estremo, oltretutto quando Joinville scrive da vecchio è ormai ufficiale, il re è santo, è stato canonizzato, ma quando avvenivano queste cose che erano giovani tutti e due, sì il re aveva già questa fama di essere santo, ma insomma capite la differenza? Joinville lo ammirava molto, lo amava molto, però lavorarci insieme non era facile, proprio per niente, le occasioni di scontro c'erano continuamente, per fortuna c'era di buono questo che il re aveva il senso dell'umorismo e stava allo scherzo perché più di una volta Joinville se le lasciate scappare grosse, una volta è capitato che nell'accampamento dei crociati, momento di tregua con i saraceni tutti tranquilli, arrivano dei pellegrini dei cristiani d'oriente armeni che stanno andando il pellegrinaggio a Gerusalemme col permesso dei saraceni. Attraversano il campo crociato e poi cominciano a informarsi e vanno anche a chiedere a Joinville, gli mandano l'interprete dicendo ma noi abbiamo saputo che qui nel campo c'è il re santo, possiamo vedere il re santo. Joinville sia che si fosse svegliato male quel mattino, sia che questa cosa che il re era un santo non gli era ancora proprio ben entrato in testa, ecco, va dal re, sono amici, l'altro è il re, lui è un suo collaboratore ma sono in rapporti molto stretti, va dal re, lo trova, dice, seduto sotto la sua tenda, sulla sabbia, con neanche un tappeto sotto. E gli dice, sì re, lì fuori c'è della gente che dice che vuole vedere il santo, ma io non ho mica voglia di baciare le vostre ossa. Baciare le vostre ossa è una cosa che un uomo del medioevo abbia capito subito cosa voleva dire. Le ossa dei santi, le reliquie, i santi normalmente non sono vivi, la grande maggioranza dei santi sono morti e noi il rapporto che abbiamo con loro è perché abbiamo le loro reliquie, che per la gente del medioevo sono importantissime e le reliquie sono venerate, baciate, certo, però andare a dire al re non è ancora ora di baciare le tue ossa non è proprio un modo gentile di mettere la cosa, per fortuna il re si mette a ridere. Un'altra volta succede che c'è una questione di soldi e forse qui dovrei fare una parentesi perché io sto parlando di cavalieri crociati, poi fra poco parleremo di valore guerriero, di cortesia, di ideali cavallereschi, finora stiamo parlando di fede religiosa, di crociate, di martirio, ecco i soldi sembrerebbe che non dovessero entrarci niente in tutto questo, errore, i soldi c'entrano moltissimo, una crociata costa un sacco di soldi ed è una grande impresa che va pianificata e la primissima cosa è trovare i soldi, poi quando ci sono i soldi si può cominciare a organizzare l'esercito, assumere cavalieri, ruolo argente, fabbricare le na e così via, questo costa carissimo, i soldi c'entrano dappertutto, un gruppo di cavalieri che parte per la crociata al seguito di un signore, nove volte su dieci sono stati assunti regolarmente con regolare contratto e pagati, è vero che ci sarebbe il sistema feudale, ogni signore ha i suoi vassalli che dovrebbero prestare servizio, ma quelle sono cose vecchie, nessuno più presta servizio gratis, ecco, tanto meno andare lontano, i vassalli stessi se accompagnano il signore in un'impresa pericolosa come la crociata vogliono essere pagati, poi se uno riesce a mettere insieme un gruppetto fatto tutto di suoi vassalli, di suoi parenti, allora bene, Joinville a un certo punto lo dice durante un combattimento una squadra di cavalieri che ha combattuto particolarmente bene e dice beh quelli lì erano tutti vassalli o parenti del loro signore, però questo è una casa ormai eccezionale, di solito i cavalieri uno li ha assunti e li licenzia come Joinville ha licenziato quel tale scortese che poi se ne è pentito, dunque devi pagarli e Joinville ci racconta dettagliatamente quanti soldi guadagnava lui dalle sue terre quando è partito per la crociata, quanto ha speso per assumere i suoi dieci cavalieri, dopodiché siccome la crociata la organizza il re, un gran signore come Joinville che ha i suoi dieci cavalieri ed è già un'unità di una certa rilevanza perché un cavaliere armato con l'armatura, i suoi cavalli, i suoi Joinville va dal re e il re a sua volta lo assume, quindi gli paga una certa somma per essere accompagnato da lui e dai suoi cavalieri, i soldi centrano in tutto, chiusa la parentesi c'è stata una grana a un certo punto perché il periodo contrattato tra Joinville e il re era finito, bisognava rifare il contratto ed era un momento di difficoltà, il re era rimasto senza un soldo, Joinville invece era abbastanza ben messo a mezzi, perciò decide di fare lo splendido come dicono i nostri ragazzi oggi. Va dal re, gli dice sarebbe ora di rifare il contratto, io sono pronto a prestare servizio con i miei cavalieri e il re dice sono contentissimo, quanto volete, non chiedete troppo perché siamo messi molto male e Joinville gli dice maestà, no maestà non si diceva ancora, Sire dicono, Sire a me mi va bene fare un patto, facciamo questo accordo, invece di pagarmi facciamo l'accordo che per tutti questi sei mesi che rimango al vostro servizio con i miei cavalieri non vi arrabbierete mai con me, perché voi ogni volta che uno vi viene a chiedere qualcosa vi arrabbiate e io sono stanco di sentire il re che si arrabbia con me, facciamo questo patto, se mi promettete di non arrabbiarvi più per sei mesi, io presto servizio gratis, cioè li pago io i cavalieri e anche stavolta il re si mette a ridere e finisce bene per fortuna, anzi è felice il re di questo bel gesto cavalleresco che ha fatto il Sire di Joinville, va subito a raccontarlo a tutti e qui Joinville ha mostrato effettivamente che lui non è un mercante, lui è un nobile cavaliere, i soldi sa che contano, contano parecchio, gli importa averne, li conta anche lui ma all'occasione si fa il grande gesto perché il nobile appunto non è un mercante non sta sempre soltanto a calcolare. Dunque si diceva che vivere al fianco di San Luigi non è facilissimo, non è facilissimo anche perché il santo stesso non si rende mica conto certe volte che lui è un santo e non può pretendere dagli altri le stesse cose che fa lui, San Luigi è uno che la sua santità la dimostra continuamente, la gente sbalordita, a un certo punto fuori dall'accampamento dei crociati sono rimasti dei cadaveri di morti dell'ultima battaglia, si sono dimenticati di seppellirli, è passato qualche giorno, sono in Africa d'estate, nessuno ha più voglia di andarli a seppellire, non ci va nessuno, un bel pomeriggio vedono il re che esce dalla tenda, si rimbocca le maniche e va lui personalmente a cominciare a seppellire questi cadaveri. Allora si vergognano tutti ma morire e accorrono. in più di un'occasione consigliano al re di salvarsi perché le cose stanno andando male in questa crociata e di tornare a casa e il re dice ma abbiamo i mezzi per riportare indietro tutti, in questo momento i mezzi per riportare indietro tutti non ci sono ma quello che conta più di tutti è il re e noi bisogna salvare il re e Luigi risponde io vedo qui intorno tutta questa gente e tutti quanti amano la loro vita quanto io amo la mia e perciò io non me ne andrò lasciandoli qua a perdizione dove la cosa interessante non è soltanto come dire questo tratto che non tutti i re dell'epoca avrebbero condiviso e di preoccuparsi di salvare anche la povera gente ma è il fatto che il re la sua vita la ama gli sembra ovvio dirlo io l'amo e come la mia vita però so che l'amano anche gli altri. Dopodiché dicevo viverci vicino non è facile e gli episodi che racconta Joinville sono tanti da questo punto di vista un bel momento ci sono lui e il re che chiacchierano e al re viene in mente di porgli una domanda dice Sire di Joinville una domanda un quesito ditemi un po' preferireste essere lebroso o aver commesso un peccato mortale e Joinville gli risponde immediatamente ma io preferirei averne fatti trenta di peccati mortali piuttosto che essere lebroso e si prende una lavata di capo memorabile. Un'altra volta giovedì santo il re lava i piedi ai poveri in memoria di quel che fece nostro signore e poi va da Joinville e gli dice sai è una gran bella cosa questo fatto lavare i piedi dei poveri dovreste farlo anche voi perché non lavate anche voi i piedi dei poveri il giovedì santo Joinville e Joinville gli risponde ma per la fede che devo a dio i piedi di quei villani io non li lavo e anche stavolta il re ci rimane male naturalmente ma appunto Joinville è uno che le dice le cose le dice quando gli vengono in mente non si preoccupa e su questo non laverò i piedi di questi villani possiamo forse lasciare da parte la dimensione religiosa che ci ha occupati anche fin troppo a lungo finora ma dopo tutto questo è un crociato e parlare dell'altra dimensione assolutamente centrale della vita e della mentalità di questi di questi cavalieri cioè questa mentalità aristocratica per cui la società è divisa e ci sono i gentiluomini i nobili i cavalieri i signori e loro sono il meglio che c'è e poi ci sono i villani e sono tutti villani gli altri sono quelli che lavorano sono tutti villani non soltanto i contadini che zappano nel campo ma anche i mercanti i finanzieri quelli che hanno fatto magari anche i soldi e ne hanno magari di soldi tanti magari più dei cavalieri comincia questo fenomeno è uno è una cosa ignobile perché i villani si sa sono gente ignobile le uniche persone per bene sono i nobili sono i gentiluomini sono i cavalieri questa è una cosa che è radicata profondissimamente proprio come un automatismo nella testa di quelli come joanville e gli episodi di questo genere sono innumerevoli si trova alla corte del re arriva gli viene incontro il cappellano del re mastro roberto sorbon che sarà poi famoso perché fonderà il collegio della sorbona in cui poi avrà sede l'università di parigi mastro roberto sorbon vede entrare a corte joanville gli va incontro lo prende per la falda dell'abito e lo tira fino dal re e joanville è piuttosto stupito cosa diavolo sta succedendo cosa diavolo appunto perché ogni tanto scappa e e allora mastro roberto sorbon chiama il re gli dice io qui mi lamento del sire di joanville che viene a corte vestito così di pelliccia e tessuti preziosi quando il re guardate un po non è vestito così bene quanto voi quella era ancora un'epoca l'ho già detto altre volte relativamente semplice relativamente modesta il lusso non era ancora tale neanche nelle corti re era vestito di tessuto normale joanville è vestito di pelliccia si sente dire questa cosa e reagisce con una durezza estrema cioè gli dice mastro roberto quest'abito che io porto me l'ha lasciato in eredità mio padre è l'abito che può portare chi viene da una famiglia come la mia io sono vestito come era vestito mio padre non si può dire la stessa cosa di voi perché guardatevi un po anche voi siete vestito di tessuti preziosi e tutti sanno che vostro padre era un villano qualunque ed è vero roberto sorbon è uno dei tanti che attraverso la chiesa fanno carriera venendo dal basso c'è questa scena spiacevolissima a corte il re si intromette difende roberto sorbon mette fine alla cosa e poi però c'è una coda perché poi più tardi il re va a prendere joanville e gli dice sire di joanville io mi devo scusare perché ho difeso mastro roberto e non se lo meritava perché avevate ragione voi però l'ho visto talmente confuso talmente umiliato che non me la son sentita di lasciarlo così in difficoltà però avevate ragione voi perché i nobili vanno vestiti di pelliccia perché così andavano vestiti i loro padri i loro nonni e il villano rifatto il parvenu che ha appena fatto i soldi non deve permettersi di mettersi al loro livello è una mentalità che durerà per secoli detto fra parentesi e si arriverà non dico alla rivoluzione francese ma addirittura al pieno ottocento perché comincia a tramontare nella nobiltà europea questa idea di essere un ceto intrinsecamente superiore e che tutti gli altri siano gente che val poco eppure joanville lo sa lo dicevo prima comincia a esserci qualcuno di questi villani rifatti che ha fatto talmente tanti soldi che sono diventati persone importanti comprano castelli occupano posizioni importanti a corte e questa è una cosa difficile da accettare non c'è niente di più divertente che vederli rimessi al loro posto questi villani che hanno fatto carriera alla corte del conte di champagne racconta joanville c'era un borghese ricchissimo herto de nojan aveva fatto un sacco di soldi era un uomo importante un giorno alla corte del conte di champagne arriva un povero cavaliere senza mezzi che si rivolge al conte supplicandolo di regalargli qualcosa per poter fare la dote alle sue figlie herto de nojan che è lì gli dice ma sire cavaliere cosa venite a chiedere soldi cosa venite a chiedere un regalo al conte il conte ha già regalato fin troppo non ha più niente da regalare e lo manda via in malo modo il conte è lì ha sentito tutto interviene immediatamente si rivolge al gran borghese herto de nojan e gli dice ma signor villano come vi permettete di dire che non ho più niente da regalare ce lo si qualcosa da regalare o voi lo afferra per l'abito e lo sbatte tra le mani del cavaliere dicendo te lo consegno lascialo andare solo quando avrà pagato un riscatto come si fa in guerra che si catturano i prigionieri i prigionieri vengono liberati dopo aver negoziato un riscatto e questa storia di come herto de nojan è stato rimesso al suo posto ovviamente fa il giro delle corti di francia e i cavalieri si rallegrano perché può succedere che un cavaliere povero venga umiliato da un ricco borghese ma poi il mondo come dire fa giustizia può far giustizia in modi anche assai più drammatici perché su questo non si transige è fondamentale che le gerarchie sociali vengano rispettate a un certo punto durante la crociata un sergente del re che sarebbe come dire diciamo un poliziotto oggi sostanzialmente un dipendente del re armato litiga con uno dei cavalieri di joanville litiga con uno dei cavalieri di joanville e lo spintona joanville viene a sapere questa cosa è fuori di sé va dal re esige giustizia e la giustizia lui verifica la consuetudine prevede che in un caso del genere se un villano si permette di mettere la mano addosso a un cavaliere bisogna tagliargli la mano e il re non vorrebbe però dice non ci si può fare niente la consuetudine non si applica mai però se qui si pretende questa è la consuetudine e il sergente deve venire scalzo in camicia a inginocchiarsi davanti al cavaliere che aveva spintonato e implorare il suo perdono e allungare la mano e dire messer cavaliere io imploro il vostro perdono qui c'è la mia mano se la volete la potete tagliare dopodiché tutti dicono no va bene d'accordo perdoniamolo su perdoniamolo perdonano perdonano lo perdonano effettivamente ma il principio è stato stabilito una volta di più ora come si giustifica ai loro occhi dico perché non si giustifica se vogliamo ma ai loro occhi come si giustifica questa idea che i nobili sono il sale della terra che i cavalieri sono il meglio che ci sia e tutti gli altri non contano niente fondamentalmente qui il problema è che i nobili si sentono e sono in gran parte quelli che fanno la guerra quelli che rischiano la pelle gli altri lavorano fanno i soldi ma il mestiere del cavaliere è rischiare la vita il mestiere del cavaliere è rischiare la vita per il suo signore per i suoi compagni d'arme per lealtà per la causa per la croce quando si va incrociata il mestiere del cavaliere è un mestiere duro noi non ce ne rendiamo conto oggi provate a pensarci cosa vuol dire saper stare a cavallo e saper galoppare con un'armatura di 40 chili addosso e saper tirare un colpo di lancia al tuo avversario e buttarlo giù da cavallo e se invece lui becca te ti sbatte giù da cavallo sopravvivere a tutto questo ed essere pronto a ricominciare è uno sport durissimo l'addestramento dei cavalieri uno sport estremo in cui si lascia la pelle facilmente oltretutto è uno sport che bisogna cominciare a praticare da bambini un proverbio medievale dice uno che ha otto anni non è ancora montato a cavallo ormai è buono solo a fare il prete se vuoi fare il cavaliere e tenere alto l'onore tuo della tua famiglia e farti rispettare prestare servizio per il tuo signore per il re devi cominciare da bambino e andare avanti tutta la vita bisogna allenarsi continuamente e stare in guerra significa stare lì ore ore al caldo al freddo al gelo con l'armatura addosso senza niente da bere niente da mangiare i nobili si raccontano queste cose poi a dire il vero uno va a vedere negli eserciti ci sarebbero anche i fantasini i domestici servitori la gente a piedi che spesso sono quelli che vengono ammazzati per primi quando le cose vanno male ma i nobili non li vedono neanche vedono se stessi sui loro cavalli con i loro elmi giunville è una pagina straordinaria quando descrive il re luigi che sbarca in egitto per primo dalla sua galera a cavallo con la lancia in pugno con l'elmo dorato si butta in mare che ancora lontano e sguazzando nel mare sbarca e da solo è già pronto dove sono i turchi andrebbe da solo a caricarli se lo lasciassero andare ecco questo orgoglio del valore cavalleresco questo orgoglio di essere quelli che rischiano la vita continuamente per principio per obbligo è la cosa che i cavalieri sentono giustifica tutti i loro privilegi poi naturalmente ce ne sarebbero anche altre di cose che dovrebbero giustificare i loro privilegi naturalmente dovrebbero essere anche i più beneducati i più cortesi più raffinati quelli che sanno trattare e in parte è vero perché loro danno importanza a queste cose poi le scene che racconta joanville ci fanno vedere che spesso la realtà non era quella però quando i cavalieri si comportano da villani gli altri ci rimangono male joanville a un certo punto racconta proprio una vicenda così era stato ammazzato uno dei miei cavalieri in combattimento gli altri lo vegliavano il cadavere sono andato lì e li ho visti che ridevano perché ridete ah niente stavamo pensando che adesso bisognerà far risposare sua moglie e joanville ci rimane malissimo e gli dice ma come mi permettete il vostro camerato è lì ancora caldo e voi siete lì che scherzate su chi si sposerà sua moglie vergogna dopodiché dice sono stati puniti perché prima della fine della crociata erano morti tutti e tutte le loro mogli si sono risposate dopodiché appunto il comportamento il comportamento con le donne il comportamento nelle camere delle donne come si dice certe volte il saper stare con le donne l'essere eleganti raffinati cortesi questa è un'altra caratteristica che in questo ambiente sociale è valorizzata è importante ancora una volta il re luigi si distingue è diverso dagli altri joanville lo nota re luigi è uno che alle donne non ci pensa proprio è sposato ma dice joanville una delle cose brutte di lui è che con sua moglie e con i suoi figli praticamente era come se fossero estranei e questa è una cosa che colpisce che non va bene rispetto ai valori e ai comportamenti dei cavalieri poi in realtà se volessimo vogliamo cinque minuti ne abbiamo ancora il re luigi c'erano dei motivi per questo e il re luigi è un altro personaggio che se uno dovesse applicarci un po' di psicanalisi verrebbero fuori delle cose interessanti perché il re ha perso il padre molto giovane ed è rimasto per anni sotto la tutela della madre la regina bianca di castiglia tremenda donna di potere che per anni ha governato il regno finché luigi era bambino e poi quando lui è diventato grande l'ha preso in pugno lui il regno ma bianca di castiglia la mamma era sempre presente e controllava tutto e il re si è dovuto sposare perché un re si deve sposare deve fare degli eredi ma bianca di castiglia non andava d'accordo con la nuora e faceva di tutto per tenerla lontana dal marito sono cose che racconta joanville sempre cosa che lui ha visto e che a lui non sembrano belle per niente non riuscivano mai a stare insieme perché aveva sempre la suocera il posto dove gli piaceva di più vivere in quel momento quando erano giovani appena sposati era il castello di Pontoise perché al castello di Pontoise la camera del re sta a un piano la camera della regina al piano di sotto e c'è una scaletta che le collega e quindi grazie a questa scaletta il re e la regina quando erano a Pontoise potevano stare insieme ma tenevano tutti e due degli usceri ciascuno nella sua camera davanti alla porta in modo che se per caso arrivava la regina madre bianca gli usceri subito battevano sulla porta e il re e la regina tornavano ciascuno nella sua camera perché se la suocera gli sorprendeva insieme succedeva una scenata cosa succede a un certo punto durante la crociata arriva dalla Francia la notizia che bianca di Castiglia è morta e Joinville è colpito dalle reazioni del re e della regina il re Joinville non l'ha mai visto così sconvolto come quella volta gli è arrivata la notizia che è morta la mamma il re è adulto ma è sconvolto piange, gli va incontro, gli fa siniscalco ho perduto mia madre non l'ho mai visto in quello stato poi Joinville va a trovare la regina e anche la regina piange e siccome questa è un'epoca in cui appunto i comportamenti erano spesso spontanei in cui spesso non ci si censurava si dicevano le cose come stanno c'era meno ipocrisia formale Joinville vedendo la regina che piange dice ma cosa c'è da piangere? ma se era la donna che odiavate di più al mondo la suocera che è morta e infatti la regina dice ma non piango mica per lei piango perché vedo che il re è sconvolto e ho paura che succeda qualcosa di brutto perché lo vedo proprio male no no anche a me non mi importa niente che è morta la suocera anzi è gente appunto spesso spontanea di una spontaneità che a noi potrebbe anche sembrare quasi infantile certe volte voi forse sapete forse non sapete che nel medioevo gli adulti giocano giocano moltissimo in parte sono gli stessi giochi che facciamo noi giocano a scacchi giocano a dama giocano a baggammon giocano sempre a soldi va detto anche a scacchi giocano a soldi perché è più divertente giocano moltissimo d'azzardo a dadi anche se il re non tollera naturalmente e quindi e poi giocano a giochi che noi oggi non facciamo più noi adulti cavalieri e dame se si trovano insieme e si annoiano possono giocare a mosca cieca possono giocare a nascondino e nessuno si stupisce perché ci si diverte e gli adulti non si vergognano a divertirsi come bambini durante la crociata quando uno penserebbe che avessero cose più serie da fare Joinville racconta la seguente storia eravamo lì nell'accampamento crociato tutte le tende faceva bello io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda si mette la tavola la tovaglia bianca nessun cavaliere pranzerebbe mai senza una tovaglia bianca di bucato è un altro simbolo di status i nostri cristalli i nostri calici pranzavamo lì nella tenda accanto c'era il conte d' il conte d' era un tipo molto ingegnoso pranzava anche lui fuori dal tavolo con i suoi cavalieri aveva fabbricato una piccola catapulta e con questa piccola catapulta dal suo tavolo tirava delle pietre verso il nostro e ci fracassava i bicchieri e Joinville racconta questa cosa estasiato quanto era simpatico il conte d' voi immaginatevi oggi i giochi che si fanno oggi nei palazzi del potere dopodiché e qui chiudiamo perché abbiamo fatto quasi mezzanotte mi sembra che sia arrivata l'ora in cui ormai il nostro cocchio si ritrasforma in zucca e dunque c'è questa cultura cavalleresca che non tutti sanno applicare bisogna essere ben educati ma non tutti ci riescono però bisogna far vedere che si è diversi dai villani si hanno tanti privilegi ma è giusto avere tanti privilegi perché noi siamo più coraggiosi degli altri e rischiamo la pelle più degli altri certe volte si esagera la crociata è andata a finire così male anche perché durante il grande attacco che era stato deciso contro i saraceni il gruppo dei cavalieri templari doveva avere l'avanguardia perché spetta per regola in terra santa che i templari hanno l'avanguardia sono i primi ad attaccare che è il posto d'onore ma il fratello del re Roberto d'Artois il conte d'Artois che aveva intorno a sé alcuni consiglieri come dire un po' tracotanti a un certo punto l'hanno visto che cominciava a accelerare e sorpassava i templari col suo gruppo di cavalieri rompendo l'ordine che era stato prestabilito a quel punto i templari vedono che il conte d'Artois li sta sorpassando e cominciano a spronare anche loro perché guai a rimanere indietro non si può e tutti gli altri dietro accelerano anche loro e l'intero attacco che era stato programmato come una successione di interventi di vari gruppi di cavalieri degenera in una corsa sfrenata perché nessuno vuole avere la vergogna di essere quello che resta dietro e va a finire malissimo i turchi li circondano il conte d'Artois viene ucciso quasi tutti i templari vengono uccisi la crociata è persa dunque a volte la tracotanza cavalleresca provoca anche grossi guai ma non sono tutti così tracotanti nella loro cultura c'è un conflitto eterno fra come dire il culto dell'onore del farsi vedere del bel gesto e la professionalità del militare che sa come vanno le cose e sa che la guerra bisogna saperla fare bene il culto dell'onore può servire anche a farla bene la guerra ti tiene su ti dà coraggio nei momenti nei momenti pericolosi a un certo punto durante questo grande disastro i cristiani stanno scappando si stanno ritirando si cerca di mantenere un po' di ordine c'è un ponticello che bisogna difendere a tutti i costi Juenville si trova da solo a difendere questo ponticello insieme con un altro gran signore il conte di Soasson ci sono solo loro due può capitare anche questo in una guerra medievale che due gran signori hanno perso di vista tutti i loro cavalieri i loro domestici ci sono solo loro due a difendere questo ponticello dietro i cristiani che si ritirano davanti arrivano i turchi due cavalieri montati bene con delle belle armature sono dei gran signori hanno ottimi cavalli spade ben affilate ecco due cavalieri possono essere già capaci per qualche minuto di fermare tutti gli altri che arrivano ma chi è che si fa sotto per primo i saraceni si fermano a qualche metro e cominciano a urlare a digrignare i denti a gridare insulti a tirargli pietre comincia a similare qualche freccia e a questo punto Joanville e il conte di Suasson si dicono sì bene adesso li abbiamo fermati che facciamo esattamente adesso quelli sono lì che urlano ma appena si muovono e dice Joanville il buon conte di Suasson mi prendeva in giro perché avevo paura e mi diceva siniscalco lasciamola strillare questa canaglia perché per la cuffia di Dio perché lui giurava così dice Joanville fra parentesi per la cuffia di Dio ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame e questo è uno di quei casi in cui appunto la cultura cavalleresca dell'onore dell'orgoglio ma anche dell'amor cortese del vantarsi ma del vantarsi non può aver vinto non può aver perso vinceremo torneremo vivi e di questa giornata ce ne ricorderemo e nelle camere delle dame faremo i belli a raccontare le nostre avventure e Joanville è vissuto così a lungo che insomma ci è arrivato a raccontare le sue avventure e un pochino ho provato a raccontarvele anch'io grazie 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 a tutti grazie a tutti